oppala, easy! è trovare certi materiali di scrap metal che in teoria in posti come questo, quindi in realtà non qua, nello specifico, in struttura come quando su starcoff ti dicono per truare salegua devi andare dove sono i cosi medici poi ne trovi uno ogni 72 ride ma sono questi, no? ah sono tipo gli anelli per il cazzo quelli no, non credo fossero quelli secondo me si controlla bene no Sarek ma è nuovo sto coso per salire ah c'è uno la, ok mi ha visto ehm, lì merda allora, l'osis il ladro è il mio quartermaster questa che c'è un occhio che guarda una parte e un occhio che guarda l'altra è il mio scout credo che ci sia qualcosa di fondo che non va bene nella mia gestione com'è che si chiama sto bagaglio? se vuoi ah si si dai che la riporto dentro te l'ho presa dalla mano mischiamo sto ma le pesce al volo? si non ci posso nooo c'è questo trick che c'è c'è per è un musicista quindi è sul pezzo è salti eccetera sapete qual è l'unico videogioco di cui non è riuscito vedi a dir cazzate che arrivano i gatti a vendicarmi è gigante secondo me è vuota è inutile che fai finta di bere ma c'è dell'acqua dentro non è che ci sia chissà cosa secondo me è vuota anche di acqua no l'acqua c'è ok show guarda nella videocamera del gatto morirei altrimenti non c'è la telecamera aspetta aspetta perchè sono un professionario te vedi mi rompe il cazzo ma guarda bro ho seta adesso guarda la vedi aspetta vabbè adesso arrivo dai te la muovo anche così si vede che streamer signori che poi saprà di ferro si ah c'è qualcuno a quello lì spara credo che mi spari voi cosa dite? addio andate a fanculo tutte e due dovete andare a fanculo ah c'è un altro e io sto sanguinando e zoppicando dai ma ha tolto ma ha tolto reputazione ma cosa cazzo devo fare io a farmi a... ma che cazzo mi sponso un i veri... si sono... avevo fatto i miei punti cioè tutti quanti avevano i propri punti ahahahahahahahahahahahah Oh Luca, devo anche qua sfarfallare? Eh sì, anche se vuoi qui sfarfalla Dopo se sapere mi dà uno schiaffone No, è qua Sta ancora attaccando Qua è ancora attaccato PORCO DIO PORCO DIO PORCO DIO Ha finito? Si, ma non avete visto cosa è successo Eh, cosa è successo? Non avete visto cosa è successo Ha trovato il mio regalo di Natale Insomma, fai la colletta Con i parenti Cioè, con i parenti che fanno la colletta e ti chiedono Ma cosa vuoi che ti regaliamo? Dac, abbonamento a vita Pornhub Toh E pensa che così dopo ogni volta che ti segherai Pensare a tua zia che ti ha regalato l'abbonamento a Pornhub Allora questo D'accordo che stiamo sparando noi Ah, ma sei incastrato, aspetta che gli hanno mal Ho ascoltato, calma, ma Sono discorsi che Buttate lì di per sé Non hanno senso Non hanno assolutamente senso Cioè, mancano tante di quelle info Che non ha senso neanche discuterne Cioè, ci sono dei momenti in cui fanno Non hanno il 500% In sei mesi le cripto Nessuno le mette quando sono in fondo Le tira fuori quando sono in cima Quindi ci hanno Non ha Sono discorsi che non hanno senso Cioè, come per dire Se uno vedeva che i Dogecoin sarebbero andati su Ci ha fatto il 5.000% Vuoi fare tu i conti di quanto sono 5.000% Cioè Come hai detto tu Magari prima di fare sta roba Ne ha persi il triplo O le ha lì da chissà quanto E quindi in realtà il totale non è quello Ma è di più, di meno Cioè, non Non è che ce li metti e li fai Cioè, o va a culo Come probabilmente è andato a lui Oppure Oppure li metti gli aspetti Come fanno tutte le persone Che non lo fanno di lavoro da anni E hanno Un minimo di buonsenso Quindi Ma sempre così Cioè, ci sono stati dei momenti In cui quelli che ci avevo messo io Erano tipo al 300% Ok, vuol dire che se appunto Lui ci aveva messo 30.000 Ne aveva guadagnati Ne aveva guadagnati 60 Ok, però poi magari nei due mesi dopo Tornano giù del 400% Cioè, non Nessuno li mette Quando sono in fondo E li tira fuori quando sono in cima Anche perché, ok Come hai detto tu, va bene Ci ha fatto 8k Ce ne ha messi 30 La prossima volta che lo fa Invece di farne 8 Ne perde 10 Cioè, non Non è una roba così scontata Se no saremmo tutti ricchi O almeno tutti quelli che mettono soldi Nel crypto sono ricchi E ricordati sempre che comunque Se li ha fatti Da qualcuno li ha presi Quindi E probabilmente Altra gente che li sta facendo Li sta prendendo da lui In questo momento Cioè Diciamo che Sia un discorso un po' troppo complicato Per buttarlo lì con Oh mio dio Ha fatto 8k Anche perché vuole sapere come Visto che In quanto E come Con che crypto Fatti da ste info Poi se vuoi ne parliamo E ti dico anche Come ho fatto Se è vero o altro Però Sì, detta così E' un po' Si può dire Appunto Ma Mancano un po' troppe info Ecco Per discutere Mettiamola così Può essere veramente di tutto Ciao Quafra Ho per caso trovato Le tue video su Tarkov Ho iniziato a giocarsi Da due giorni Molto utile Fa Piacere che Ti siano stati utili Mi fa un po' meno piacere Che tu abbia iniziato a giocare A Tarkov Mi spiace molto Ma In bocca al lupo Non so che altro dirti In bocca al lupo Mettiamo Mettiamo su qualcosa Su Non so Una roba inutile Tipo lo fai oggi Veramente schifo Lo fai Questa roba Guarda la playlist Che si chiama 8bit Bomba Sacco di prelie strani Che non sapevo di avere Pensata Sta roba cos'è Synthwave Vabbè Vabbè Eh allora E' qua Come si può capire Dal rutto Già lo so Siamo qua E a che punto eravamo Siamo al punto In cui tiriamo Delle madonne Questo lo so Questo lo so Siamo al punto In cui andiamo Da Scub Dai 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 Andiamo Alla è troppo divertente Andare da lighthouse Alla lighthouse Da scub Ultima new entry Di new world Puoi comprare Gold coin Con soldi reali Viso Mastercard Mi domando Mi domando se sono Vai amazon direttamente No Se saranno i soliti bot Immagino che stia Parlando solo dei bot Sei qua orso Per caso Vai amazon Non credo proprio Perché sia una roba ufficiale Sennò i soliti Qua che avevamo Avevamo i rossi Se non sbaglio Su qua di solito Ci sono i cinesi Qua ci sono i rossi Adesso sono curioso Tra l'altro Non so se ve l'avevo detto Tipo la prima Sponsorizzazione In assoluto Che ho ricevuto Su questo canale Proposto di sponsorizzazione È stato di un sito Che vendeva gold Di new world Mi chiedo Se siano conto Terzi O amazon games Ma mamma no Sono Sono sempre esistiti Da quando esistono I giochi online Esistono quelli Che ti vendono i gold A soldi veri Se si riferisce a quelli Mi sembra Saranno che non li abbia mai visti prima Ci sono da tipo Giorno 3 Di new world Quando erano FK A farmare le vene di iron I dati oggetti a soldi Significa avere uno zaino In ogni sé Zaino 8 Solitamente Ci sono fan Ciao white ninja O ogni bot Che li farmano la roba Quello fan di lavoro Ci sono quelli Che si mettono Li farmano E poi li vendono Magari stanno di 12 ore al giorno Non hanno trovato il modo Per fare soldi E poi vendono E Se no Inculano gli account E la gente Su Facevano così Inculavano l'account Shardavano tutto Disincantavano tutto E poi Vendevano la roba Belle cose Insomma No Ma pure oggi Deve piovere Nikita Nikita Hai rotto il cazzo Ma nessuno piace la pioggia Su sto gioco Fastidioso e basta Fa controllare una roba Scusa Spero anche di sbloccare il free market Siamo al 13 Appena faccio il 15 Di bot Compro di tutto Divento povero Che così mandiamo avanti Light out Dove capire come mai spamma così tanto Sto bot Ho sbagliato i tempi No 75 55 H-boy Cioè Ogni ore un quarto Spam Mi sembra che vada un po' troppo spesso però Timer No Ogni ore un quarto Sarà un incognito io Andiamo dai nostri amici Via Cosa abbiamo su Della merda Perfetto Andiamo Dove siamo? Qua Una macchiata In caso Già che ci siamo Che ho mai stato in sto posto No Andato un uomo al VPO Gornostai Penso Cibo Di sicuro non ci manca Lati in povero il boss ne trova che Può costruire un castello Oh giacca Non si va su Ci sono più quad Che persone in sto posto Comunque Ah ma perché tipo L'hotel questo No Questo Sì Questo è il resort Ok Quindi si vede che vanno i quad parcheggiati Da far usare A A chi veniva qua In villeggiatura Vabbè Ma a noi di lootare Che cazzo Ce ne frega Che tanto adesso Andiamo A morire Come degli idioti In 35 minuti Ancora Andiamo Andiamo Che magari troviamo Un altro squadrone Di scav Doi Ma perché non ti fanno ancora Ancora Sono qua Dove eravamo di sopra Allora Sono incalzati Dove eravamo di sopra Tra l'altro Potrei anche Potrei anche Aver trovato Sto chiave Adesso che ci penso Ho la chiave Di una cassaforte Di stamappa Secondo me Vabbè 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 Sarete cazzo Andiamo in là Che sparano Si esce di qua Sono super Sono super Incazzati Ottima strada Ottima strada No Non ho guardato Un video Merda Devo guardarlo Perché c'è Un tizio Non youtuber Che Vabbè Ovviamente Oh Ma merda Di là Sei stronzo No Dai Sicuramente pesante Tra l'altro Non ho niente Per curarmi Pezzo di merda Non ho neanche visto Merda Era lontano Non sentivo neanche i colpi Hanno sentito uno In lontananza Ma non scaf poi Ma dai Ma sei Non sei veramente Un rotto in culo Ciao Luca Penso adesso Non scavo Dimi qua A spararmi In mezzo alla strada All'altra parte Del mondo Beh Non c'è più rispetto Ciao Mitrax Sembra che tu Stia cercando qualcosa Nel Ginungagap Non c'è più rispetto Non c'è più rispetto No Un anno fa Can't find Here's why Ok Perché Avevano detto che li avevano tolti I dataminer Che controllano Le varie patch Hanno detto che li avevano tolti Da Tutte le mappe Tranne custom Woods e factory Però adesso li hanno rimessi Bacchizzi BROKEN Giospot Updated Forse questo Items to keep until flee Secretly wipe Meta Long queue times in Tarko Ah eccolo qua Forse questo Aspetta Abisso cosmico Normanno So che lo sai Ok Adesso come l'hai messo M'hai detto Sì Non collegavo Comunque Il fatto Cioè Beh comunque Avevo visto Ah ecco Vedi Si ritrovano Un'altra volta Tipo Questi sono Questi sono I scaffali Di Ikea Due Uno di fianco All'altro Tre Ma che cazzo Quattro Ma siamo seri? Ma che cazzo vuol dire? Tanti da sciare Ne sono intercambi Ne sono intercambi È il migliore Ma che cazzo vuol dire? Pensa te Tutti in 48 ore Tutti questo Tutti aumentarono Intercambi Spawn rate By 260% E' aumentati 260% Perché in pratica c'hanno un gruppo di persone che controllano i vari dati quando ci sono le patch E' a quanto pare Sono intercambi Adesso Pensate Quindi Siamo intercambi Andiamo a farlo a questa Cazzo Cosa ti sblocca? Sanitary standards 1 Tarkov Sanitary standards Parte 1 Ti sblocca la parte 2 Giustamente Chi è? Ah ok La prima devi trovare uno La seconda devi trovare due Ok E poi ti sblocca Morfine Pharmacist Eccetera Si te ne sblocco un po' È tutto bloccato da quello Ok Mi sa che andiamo là allora Perché tanto non devo fare altro Chiavette Ah Devo fare questa roba qua BP di hipot E anche intercambi Non devo fare altre quest Però prima di fare quest Intercambi Ne passa parecchio Eh Prima di andare intercambi Ciao Flint Si dice che sto cercando Dei gas analyzer Mentre tiro delle madonne Niente Niente di troppo interessante Al momento Dio boh Adesso sarà pieno imballato Andranno tutti là Andranno tutti là Sarà l'inferno Lui li ha trovati da idea Di solito erano da oli Questo giro invece Mi hanno trovato i quattro Da idea Andiamo a vedere Stamattina ho fatto la quest Di consegnare la roba a Factory Ho giocato una mezz'oretta Prima di andare là Mentre facevo colazione Finivo due robe Ho fatto quella quest Ho un corso su Mi sono messo a urlare col VoIP Lasciami stare Sto solo piantando sta cosa E uno mi ha risposto Ha detto tipo Sì Ok ok Va bene Un po' di pioggia Perché Perché no Come lo trovi il VoIP Io questa settimana Non riesco a giocare Per motivi di lavoro Ma sono troppo curioso È figo È super figo Da scub ovviamente Molto di più Perché così riesci a organizzarti Con gli altri scub Però lì è la roba più figa Però anche da player Adesso ci si spara Cioè capita spesso di Di non spararsi No è Una cosa figa Magari sai quando fare quest Così Si va via Pacificamente Con gli altri Che Ovviamente sono lì a farle quest Anche loro In questo punto Il VoIP Quindi Più si va avanti Secondo me Meno Pietà si avrà Perché cioè Se adesso Becchi uno Che sta andando Tipo appunto Da Tarkone A prendere il pacchetto Oppure andare A Lo zibo dorato Cioè cose del genere Dice vabbè sti cazzi Dai facciamo sti quest Tranquilli Più avanti Cioè quando sei a livello 50 Cazzo Non mettere un cazzo Di mazzare un altro livello 50 Sono cazzi suoi Adesso invece Sti cazzi Si livella tutti quanti Allegramente insieme Insomma è capitato Quindi puttando La serie friendly Poi ti sparano No Per adesso no Anche perché da PMC In realtà quelli che dicono friendly Solitamente si è tipo Dall'altra parte Di un muro O due stanze vicine Cosa del genere E non ci si vede mai Perché entrambi si ha paura Che l'altro sparino E quindi magari lo senti E glielo dici Dici Ma mi che vuole Sì sì Sono qua a fare la quest Poi però Ognuno va dalla propria strada Non è che Ci si vede Si va via insieme Perché ormai tutti Hanno paura Di quella cosa Però già così è figo La gola ha distrutto oggi Scusate ma Tossirò un botto L'altro giorno Da scav eravamo Lì fuori ospedale A custom E eravamo in 5 scav Con due pmc dentro Che si sa esce la roba Anche l'altro giorno Eravamo tipo in 5 scav Che siamo andati a picchiare i rogue Dai Una figata Un scivoltore di merda Da hospital Esatto Sto cosa serve per fare qualcosa Forse serve per fare La med station Di livello più alto Qualcosa del genere Non mi ricordo Però serve Lampadina sicuramente Serve per la head out Sicuramente Dai ma perché c'ho della roba Sul tappetino Dico è stato un gatto Che mi ha lasciato la sabbietta Stamattina Lì si attacca sotto le zampe So che giochi da solo Tendenzialmente Ma metto l'alco Da solo Non riesco a giocare Ti va di fare qualche run Assieme qualche volta Sì Adesso Di solito Faccio i primi tempi Faccio da solo Che così rascio le quest Tiro dritto Che poi in realtà Gioco spesso con Luca Piero E gli altri Quindi in realtà Non è che Gioco per sempre da solo Di solito faccio Il primo periodo In cui cerco di rasciare Le quest il più possibile Poi facciamo qualche giornata In cui gioco con Con chi ha bisogno Con chi vuole giocare Così Quindi Quindi si dammi ancora Qualche giorno Che rascio Il più possibile Le quest Che almeno voglio sbloccare Il flea market I trader Quasi semplici Anche perché puoi pegare una mano Sai se hai flea market Se serve qualcosa Lo compri Lo passi alla gente Oh questo mi serve Grande anche questo Cazzo Ma i colpi Tanto non costano niente Boh Un po' di painkiller Ho già trovato Un botto di roba Che mi serve Cazzo Un po' di painkiller Anche perché Perdi Scav Karma Quindi Di solito Si cerca di non ammazzare Altri scav Poi ovvio Se vedi uno scav player Che è un po' sospetto Magari inizia a spararti O altro Se vedi uno scav player Che ammazza Uno scav Ovviamente Devi ammazzarlo Però scav normali No perché Perdi Karma Comunque Se c'è anche qualcuno Flint su Discord Chiede sempre La gente che gioca Per meno Non si va in giro Da soli Duck tape Sono a posto Secondo me Quello blu Mi servirà Non mi ricordo Sì Quello di sì Per light out Credo che serva Vabbè che adesso Se sblocco il Flint Me ne posso sbattere Il cazzo Di sta roba Non sono gas analyzer Ci speravo Ho già guardato Tutte e due Aspetta Questa Ho ancora guardato Adesso E questa l'avevo guardata Mi sono perso Ah no Infatti Di subo Sembrava di aver saltato qualcosa Che purtroppo i lavoratori Ho difficoltà a beccare gli amici Con quel gioco di solito Ah ok Capito Ehm Sono quasi intanto di uscire Perché col nastro bianco Faccio Faccio qualcosa La light out Che non mi ricordo Che cos'è Ma facciamo il giro Dai effettivamente C'è un qua Che cazzo Tanto ce l'ho nella pouch Anche se muoio Non è un problema Non mi ricordo Che è questa Ah ma aspetta Mi manca ancora un Un tubo forse Era per il Cosa dell'acqua Può essere Sì mi sa che per il Cosere l'acqua Ma mi manca ancora un tubo Dobbiamo guardare La capacità di dissipazione Dell'arma Ah è vero Cos'è che avevi scritto Non ho ancora studiato niente Per il suo riscaldamento Non sono un cazzo Comunque con la cosa Ci rifaccio la domanda Eh non ho ancora provato niente Bisogna Appena avrò i soldi Che faccio una build Perché con le build di merda In realtà Non Non è che me ne interesso Cioè Uso quello che ho Nella stash E pace Quando invece potrei fare Le tue build fatte bene E lì bisognerà fare due prove Per vedere com'è Appena riesco a build Un qualcosa di fatto bene E si prova Si prova e si scopre Esatto Perché cambia tantissimo Degli attachment Che metti Quindi Non è neanche stesso Come provare Che ne so Un M4 Con un silenziatore Un coprifiamma Di merda E puoi dire No l'M4 è una merda Perché si surriscalda Quando magari Mettendocene uno Buono Non si surriscalda Per quello che bisogna aspettare Di poter fare Le build Che hanno senso Ciao Andrea Grazie È vero però questo Cosa gioco un pochino Agli AK Sì quello sì Quello secondo me sì Infatti io sono contentissimo Perché A me piace sempre Usare le armi Che sparano più Tipo l'ash 12 Per me è dio Mi diverto un sacco Fa schifo Non riesco ad ammazzarci Nessuno Però mi diverto un sacco C'era qualcuno C'era qualcuno Ho visto troppo tardi Bene se c'erano Dei gas Analyze Mi sa che sono andati Buono anche Quello a posto L'altro era uno Scav o un player Oh bello questo L'altro era uno Boh, se giocassi con Rossum mi piacerebbe non sai quando, probabilmente il raid finirebbe in un angolo morto di 7 di fame, perché? Passerei il raid a ridere? Incapace tanto di un... eh madonna! Tantino esagerato eh! Oh, bella questa! Forse è meglio che non giochiamo insieme! No no, devi giocare quando siamo tutti quanti! Se giochi con Luca e Piero che vanno d'accordo, allora anche ieri sera è finita bene! Praticamente si è più... perché più alto è il raid, esatto, più scade in fretta, però magari con un buon grip e un buon pfiamma riesce a mitigare... eh sì! No, esatto, con i caricatori da 60 secondo me... Oltre al fatto che ne vedremo meno di base perché non ci sono più... all'asta! Se non sbaglio, quelli lunghi, ci sono quelli tondi, degli M4... ho letto così al volo o non mi ricordo bene? Però secondo me è così... però comunque di base ne vedremo meno! E poi proprio per il solo riscaldamento ne vedremo ancora meno quindi sì! Sarà interessante! Mentre invece gli AK si usano tranquillamente con i caricatori da 30 sparando in maniera un pochino diversa quindi... Magari torneranno ad essere in meta... Io ho sempre preferito gli AK e gli M4 perché mi divertono di più... Però l'M4 è mille volte più forte, non c'è un cazzo da fare... Sembra di giocare a Quake, c'è un cazzo di laser... Questo no, questo ovviamente è una merda! Però quando li fai fatti bene sembra veramente di avere un laser in mano e trita qualunque cosa... Ovvio che costa un po' riempirli di 995 però... Beh io per non andare a uscire... Due robe le ho tirate fuori... Scemo! Non ti pare? Si è rimasto male questo! Mi ho guardato un attimo male! E come primo ride... Se non finisce in vacca va benissimo! Ma quando si incartano riesci ridendo con i VoIP e gli surprise madafucker! Se uno arriva veramente a fare sincero parlare per il solo riscaldamento vuol dire che è stato lì in full auto per un bel po' da quello che ho visto! Non è così semplice! Quindi un po' se lo merita! Anche l'RPK... Anche l'RPK potrebbe tornare in meta così... Bello anche quello! Può fai cosplay di kill! Lunedì starta... Già bene con i 995 se non sbaglio... Sono Bersolo per la Capping Stash e hanno i PS... Lunedì starta bene... Allora... Se non sbaglio... Io sono Bersolo per la Capping Stash... Hanno i PS... Non ho capito... Eeeh... G-G-User che comunque partono con gli 885... E i Bear con i PS... Con i PS... Veramente... I PS sono molto più forti degli 885... Che lavoro faccio? Nessuno! Al momento... Da quando abbiamo venduto... Avevamo un'attività in famiglia... Abbiamo venduto... Al momento non sto facendo niente... Sono qua! Sono qua a fare cose online... Senti iniziamo a vendere perché non ne posso più... Questi serviranno però... Anche questo servirà... Use... Ah ok... L-L-L-L-U-Z-E-C... L-A-P-O-Z-E-C... L-A-P-O-Z-E-C... Come cazzo si pronuncia? L-U-Z-E-C... L-U-Z-E-C... L-U-Z-E-C-START... Comunque no... Non parti con il 995... Sei pazzo... Parti con gli 885... 855... Scusa... No no... Assolutamente... Tutta sta roba mi serve... Sì... Questa sì... 206 è quella che ci serviva... Può essere... Grande cazzo... Ho trovato la chiave dell'acqua... Possiamo fare anche quella quest adesso... Tanta roba... Questo costo un bot... Teniamo per... Poi l'asta... Questo vendiamo... Il merino... Vediamo tutto... Non mi interessa... Dorms... Auguri... Sì... Vabbè... Tanto... Bisogna andare... Non è che... Non è che si scappa... I branch non mi servono... Questo qua sì... Con questo posso fare a questo... Adesso... Anzi... Facciamola subito... Quella del... Gunsmith... Da 1... Questa no... Ciao gatto... Ciao... Ah c'è... Sì... Dimmi... No... È troppo rotto sto... Sto... Adar... Cosa ti turbo Baldo? Dimmi un po'... Che cos'è che vuoi? Perché non so se te ne sei accorto... Ma è sembra una minchia... Te ne sei accorto... Per caso... Dai... Vieni qua... Allora... Dio Bono... Mettiti giù... Dai... Giù sto culo... Giù sto chiappone pelose... Eh... Nemo... Saluta... Saluta... Dio a tutti quanti cos'è che c'è... Cosa c'è che non va... Ti trattiamo male... Non ti andiamo da mangiare... Eh... Mio... Il mio partono con i 5.45 PS... Ah... Ok... 5.45... Sì... Ok... Crede voi... 7.62... Ho un cellulare cinese... Non pretendiamo... Beh... I sciomini... Sono cinesi... Gli spaccano il culo... Che è successo con Piuri... No... Beh... Sì... Niente di che... Sono morti... E... Tutto è finito con... Luca... Porco Dio... Sembrava un norvegese... Sì... Sono... Sono molto simili... Sono super pelosi... E... Grossini... Tutti... Tutti... No... 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 Abbiamo trovato anche il tubo... Water collector... Quanto ci mette? Due ore... Va beh... Security... Grande... Ah... Cazzo... Cosa facciamo? Perché... Si usa questo per fare la security... Si usa le tenali per fare la security... e non le ho per fare la quest se io faccio la security va avanti qualcosa posso fare l'intelligence center? non ancora perché mi manca un diario sì non lo so onestamente adesso mi serve dell'altro scotch bianco solita roba dei chiodi ma c'è sto cosa? penso a te è nuovo guarda bulbex cable cutter è nuovo sto a fare è nuovo sto oggettino mi servono degli acce ah anche i fiammiferi buffi mi servono vabbè manca sta roba oh e tutti i dry fuel che ho venduto me ne si riega un tre non lo sapevo vabbè il player lì o lo usiamo per questo o per laid out parca troia ma ne ho solo due veramente non ce n'è un altro no no non ho un altro impacco e non riesco a fare il trade ovviamente no head out che se ne frega head out vince sempre anche perché ci mette tre ore così nel frattempo va sennò siamo bloccati qua ah basta andiamo andiamo interchange che se no troviamo più sti gas analyzer ma come a me questa mattina non sono arrivati i drop da prapor a te è arrivato qualcosa no ah non lo so ci devo guardare perché ho prapor che è pieno imballato di roba che mi sta tornando l'assicurazione quindi adesso devo fare veramente ordine perché se no non riesco a tirarla su e non ci ho guardato vieni che vado se sei pesante se fai caldo se sei fastidioso sei ingombrante sei sei grosso e peloso si cosa quanto gatto che sei ciao che tamina guarda quanto cazzo ingombrante sto gatto come fa uno a vivere così come fai a giocare questo affare addosso cosa sei scomodo ti devi allungare eh non ci stai io devo giocare però baldo adesso come facciamo non è che c'è qualcuno ridami il braccio per piacere così va bene così ti va bene si va bene ok e poi il gatto più coccoloso e puccioso del mondo per 5 minuti poi da un momento all'altro prende su salta via non lo vedi più non lo puoi toccare io boh non li capisco analizzatore di gas dove sei dove sei una volta erano qua a loli tutti quelli che ho visto tra ieri sera e oggi però li hanno trovati all'idea è un po' sospetta come cosa è un pochino sospetta ok non vedo un cazzo non vedo assolutamente niente giù di qua con la luce intanto un gatto di là sta tirando giù qualcosa ho sentito qualcosa che cadeva mi piace un sacco intercensione ma ancora ti perdi anch'io i negozi non li ho ancora imparati i punti di riferimento c'è un po' di punti di riferimento ma i negozi non li ho ancora imparati ogni volta che devo fare le quest qua dentro devo aprire la mappa devi prendere l'oggetto x nel negozio x dove cazzo è ogni volta non senza mappa non ci sa girare dio vaca quanto cazzo di cibo e quanti pochi gas analyzer sto wipe e ce l'ho già guardato di qua si sono arrivato andiamo oltre ehi no interchange come con chat piace molto anche a me c'è il centro commerciale abbandonato è una figata pazzesca già vado è stato un piacere averti con noi e da giocare non lo so non è male ma non è di sicuro una delle mie mappe preferite mi ha citofonato e che molte volte muori da uno nascosto dietro una cassa in un angolo buio che non vedi o cose del genere proprio dal punto di vista del gameplay non è massimo motori ne abbiamo pochi di rust cosa ne pensi mi piace molto il genere rust poco se vuoi giocare un gioco del genere preferisco in ordine scam e dei zii preferisco cose un po' più reali realistiche non reali quindi si scam o dei zii sono a me piacciono di più personalmente rust non c'è niente che mi ha giocato in realtà ma proprio perché così ad occhio non mi piace l'ambientazione e lo stile shoreline è bella è bella però se devi fare i giri fuori mica mi smarono che sembra woods io già non lo vedo io non vedo l'ora per street of tarkov ah si no non si sa ancora niente dove va oh ma i cane mi hanno anche parlato era lì fermo gli ho parlato ho detto boh sarà non scappa oh ehi anybody home se mica troppo simpatico sappilo ah c'ho dell'adrenalina avete trovato le gas analyzer no hey i can hear you a me ho detto ho detto che tolto però la che tolto no me che tolto e mi piace abbastanza lo che tolto meno questo è un po meno simpatico vabbè motori bassi ne abbiamo abbastanza direi allora sta roba prendiamo l'acqua vabbè perché un po di vd40 non avevi un cazzo non avevi avevi un cazzo ma hai sparato così a merda vabbè ti sta bene ho buttato per tari caricatore pazienza pazienza questa roba credo che non mi serve a niente comunque dicevo non si sa niente di State of Tarkov e la dovevamo vedere cioè comunque avevamo detto che era nel 2022 dopo Lighthouse il problema è che già Lighthouse è arrivato un po in ritardo perché doveva essere nel patch scorso quindi chissà quando arriva Street of Tarkov in pratica noi qua cosa facciamo andiamo a vedere la idea dubito che ci sia ancora qualcosa ma tanto vale ciao Elinam ti sei ricordato di avvertirci di squadra live? si oggi si almeno credo ho scritto il messaggio credo di averlo inviato poi magari l'ho scritto e non l'ho inviato però ho scritto l'ho scritto prima te ha sperato ha sparato sperando di aiutarti un gas analyzer beh un po' una tattica di merda il Green Tea serveva a qualcosa una puttanata però serviva ieri mi son detto vacca boio li ho bevuti tutti quelli che avevo invece servivano per sta cosa non mi ricordo neanche cosa però adesso in caso ci guardo ciao vedo oh vai lì che mi guardava mentre lootavo ma non l'ho assolutamente sentito che cazzo è ninja ma potrebbe anche essere no che è un player madonna oggi ho incontrato Taguila per prima volta mi ha tirato una martellata poi mi ha lasciato estrarre il leso a caso ma è meglio tra l'altro incontrare i boss a inizio wipe quando non sei girato è è un pochino pericoloso comunque ci sono troppi scav qua interchange cioè è invivibile aspetta qua ci sono delle cassette oltre un cadavere no PMC infatti abbiamo buttato fuori un trailer della madonna per fuffare ma non ho capito perchè hanno fatto il trailer di street of tarkov prima di quello di le taos cioè sono cose che si ma questo prendo io grazie un po' migliore della mia roba chi l'ha ammazzato ucciso da Killa molto bene sono ancora in giro Killa? questa è la domanda successiva oh cazzo oddio quanta roba hai sentito che arrivano le cavate dove sono il new world? ho visto e per visto intendo che ho letto il titolo di un articolo e basta poi ho detto mi informerò e non mi sono mai informato sono proprio dei minchia questa è la mia è la mia conclusione fa un culo se le cuffie sbagliate veramente ci voglio credere eh adesso lo vediamo dove è finito non c'è più pensate vabbè allora cosa ci serve? cosa ci serve? toolset, motori avete rotto il cazzo non ho già troppi dai c'è uno slot bugato qua non c'è niente questo teniamo questo teniamo sta lì ok questo teniamo questo teniamo di sicuro questo anche dovabbè amorfino facciamo così tè, cpu questo no augmenti ne abbiamo due milioni cavi me ne serviranno a chili questo sti cazzi cibo ne abbiamo abbastanza direi facciamo così ok direi ok adesso basta non fare la fine che ho fatto questo mi piacerebbe prendere l'elmo ma chissà dove è finito niente elmo quindi chi la è vivo bene ma non benissimo esatto cioè non so se è vivo magari ha ammazzato qualcun'altra non lo possiamo sapere se dovessi scommettere due euro direi che è vivo però magari no prendiamo la benda succede qualcosa ce l'ho l'altro avevo un'arma distrutta questa è un'arma di uno scu Cioè siamo dato l'arma di uno scavo. Questo era uno scavo. Il player era anche questo. Devi pensare così esatto. Ciao Leona. Non è nello zaino l'elma no. Quell'altro quello che ho buttato via. Ho buttato via un elmo. Palle di slot baggati. Così a casa. Ma direi proprio che non sappiamo. Un momento è questo. Andiamo a vedere le stash. E poi ci leviamo dai coglioni. Bim pum pam. Non abbiamo messo i filtri. Luce per Tarkov. No. Mi sono dimenticato. Adesso lo faccio. Ma che è questo? Ah è quello merdoso nuovo. Ma che schifo. Che sembra strafigo gigante chissà cosa. Invece è una merda. E che sto continuando a tirare fuori roba. Che non è niente di che. E non trovo quello che mi serve. Invece. Il solito problema. Quando trovo un po' di roba. Dico. Ah beh abbiamo tirato fuori questo. Questo e quest'altro. Mi serviranno. Questo mi servirà in futuro. Questo mi servirà per una quest. Questo per light out. Questo per un trade. Alla fine c'è una stash piena. Non so dove mettere la roba. E non riesco a farle questo. Ti dico solo che Matteo Montesi streama su Twitch. Ok. Qual è il suo canale? Per me dovrete rompere il cazzo l'uscita. Ma poi cosa fa su Twitch? No. Non ho già guardato. Non so neanche se andate a vedere quello là sotto. Ma direi di no. tanto. Anche questo. Di solito se hanno guardato questa. Quelli che l'hanno guardate tutta. Sperando di un bel caro. Questo qua che compra. Adesso all'uscita. E' che per di più sono vestito con un PMC. Quindi se... Così a colpo d'occhio. Cioè risulti che mi sparino. Gli scav. Gli scav player. Perché mi scambiano per un PMC. Ancora non hanno ancora sistemato le uscite intercensione. Cioè hanno aggiunto quelle due o tre... Un annetto fa. Vanno ancora a cagare le uscite di sto posto. Mi pare che se due armi sono tutte e due distrutte. Quindi le vende entrambe. Il problema è che c'è lo zaino pieno. Non so dove mettere sta roba. Io speravo che toglievano il blocco di alcune quest. In che senso? Cioè la maggior parte delle quest sono da rifare da zero. Perché fanno anche gare. E lo sanno anche loro. Ho detto che è una cosa che... Che verrà fatta. Tutte le quest dovranno essere rifatte quando uscirà poi il gioco. Con la versione definitiva. Cioè la finale. La 1.0. Speravo che sia adesso una mossa a farlo. Perché è veramente una... Parte brutta del gioco. I gas e le chiavetto USB dicono tutti che vanno tolte. Cioè non ha proprio senso. Non ha senso perché loccare tutto quanto... Con della roba completamente a random. Perché il loot è random. Di concetto. Non ha assolutamente senso. Ma proprio sotto nessun punto di vista. Ah è vero che ho svuotato un po' sto coso. Però evidentemente non la pensano così. Purtroppo. Quindi se ne parla tra l'altro i 5 anni. Sì più o meno sì. Ciao. Ciao Minitrux. Buon lavoro. Alla prossima. Il culetto qua lo teniamo. Che ci piace dell'arma. Questa è una merda. Probabilmente la venderemo. Le cuffie le useremo. Oppure rendere non fanno il ride. Oppure craftabili. Sì dovrebbero mettere il craft. Tipo il salevo una volta non c'era il craft. Secondo me il ride out. Non vorrei di una cazzata. E poi non ho aggiunto. Dovrebbero fare la stessa roba. Ah pensa che le chiavetto USB le ho fatte gli scorsi wipe. Le ho fatti con ride out. Le ho craftate. Cioè sono arrivato prima a poterle craftare. Che altro. Ah no guarda. Mi ha dato la roba proprio. Mi ha dato due cracker. Due sottilette. E una granata. Grazie proprio. Troppo gentile da parte tua. I zaini. Ah non c'è l'appoggia roba qua. No. Come non detto. Come non detto. Meccanico. Sono un po' rovinate le armi. Ma te le prendi. Ma te le prendi. Dai cazzo. Ah questa si guarda a posto. Questa no eh. Marco per il cazzo proprio. Ok. E beh questo. Ma pensate a te. Occupa uno slot solo. Sto milano di merda. Proprio brutto. Madonna c'è brutto. Chi è che devo livellare. Più che altro. Skier. Non gli sto vendendo niente. Ah Jäger. Ma non compra un cazzo. Il problema di livellare Jäger. È sempre che non compra. Niente. Ma niente. Mica lo sto livellando a coltelli. E puttanate del genere. La ratkola 14k. Ce l'ho no? Ce l'ho già da parte. Guarda che se ne trovano Achille. Sì la ratkola ce l'ho. Toi Jäger. Compline anche la ratkola. Allora. Fence. Pegliati sta merda. A questo punto perché non fate che vi scegliete le armi e le equip che volete senza più soldi. Lute e niente. Giocate solo per spararvi tipo Worldzone. Tecchi scherzi ma la modalità arena è una cosa che in teoria ci sarà in questo gioco. In teoria ci sarà. Prima o poi la vedremo. E immagino che sia Quello che hai appena descritto Perché interiamo dai t'arena Io la penso così Ciao spreadgot Scusa Eric da quanto giochi a tavo Se stai parlando con me non mi chiamo Eric Se stai parlando con un altro Eric Lascerò rispondere quest'altro Eric Perfetto ma sarà separata dalla modalità principale o almeno sarà una modalità più leggera per chi ha meno tempo per giocare? Non si sa niente. Hanno solo detto che ci sarà la modalità arena Quindi Possiamo solo presupporre che sia una roba alla Apex Che già le modalità sono ovviamente separate Quindi o ti fai questa qua Che stiamo giocando adesso Oppure ci sarà arena Poi mi chiamo Fabio Come consiglio di usare il mirino? Tenho premendo come preferisci Non cambia assolutamente niente C'è chi lo usa in un modo e c'è chi lo usa in un altro Quindi Puoi tranquillamente fare come preferisci Ho troppe armi che non userò mai Questo qua non userò mai Compra gli agri mirino Del cazzo Non compra niente sto stronzo Anche per skipro devo livellarlo un po' Questa è una merda Questo senti se mi sale uno li ricompro Basta non si può andare avanti così Veramente Nel PM serve per le quest La K74 non mi serve Una luce Va bene Tu vedi? Spero che mi vengano i caricatori da 30 Del MP5 Questo cos'ha? APS anche questo Niente Questo cos'ha? Della M Vabbè ce ne ho un pochino Li tengo Colpi buffi merdosi ci sono Blackout Vai li teniamo DBP Oltre 80 Questi Niente PRS Guarda Massimo li ricompro Costantemente poco I bugshot Vai li teniamo Se servono Ok Beh dai Ci mancano solo 10k di roba Da tradare con più skip Vabbè Oppure usare fancy Ti vende a casa le robe Anche a prezzo maggiorato Di cosa stavamo parlando Cioè te le dovrebbe vendere Family Ride Se proprio Volessimo renderlo utile C'era la faccia da Eric No non credo proprio Che può essere In realtà non lo so Da quanto gioca Tarko Due anni ha rotti Non tantissimo Non ho iniziato subito L'ho provato Tipo nel 2017 L'ho provato un po' nel 2017 Ma non mi era piaciuto Anche perché giocavo a PUBG Quindi ero rimasto A giocare a PUBG E poi dopo un po' Invece In 2019 Inizio 2019 Forse Non mi ricordo Mi scrivo Per la 2 Ti sgancia lo Scar Veramente Già E quanto Quanto costa Vai un trade Pensata Avrei Avrei mai detto Riusciamo a zotare Sta merda Qua Green T Aspetta Fermatutto Tarkov Green T Ciao Shifty Thrifty Non so se te le do a soldi Adesso ci vado a vedere Tarkov Scar L Anche perché poi ce ne sono Due di Scar Doviamo a vedere quali ti do Scar L P skip per livello 2 Standard Variant Quale cazzo era standard Per loro Non dice niente P skip per livello 2 Scar No USB T T Andiamo ancora a giornale Solo wiki Dice che lo vende ma non Non ancora i dati L non H Ok H dovrebbe essere quello ��se Non lo so Non sono così esperto Tarkov, Scar... eh che la wiki non è ancora molto aggiornata... eccolo qua la MK16, che è l'L... c'è solo questo per l'ora... al momento vedo solo questo si e non c'è... non vedo prezzo niente... vabbè dai andiamolo a livellare così scopriremo e il green tea serve... ah per la chiave di Tarkov... avevo visto quella roba lì in caso per tenerlo se serviva a qualcuno perché non ho la chiave di Tarkov io e con due puttanate te la dà quindi giusto per averla... ma sti cazzi la troveremo la troveremo... il green tea possiamo... possiamo cestinarlo quindi... tutta sta roba mettiamo dentro... e Siringa e Adrenalina non servono vero? questo sì... per qualcosa che non mi ricordo cosa ma di nuovo ma serve... no Jager c'ho uno zaino bruttissimo da venderti... ma veramente brutto questo aspero che non serva... se serve tiro delle madonna... ti do anche il green tea... sei contento Jager... quanto ti voglio bene invece di fare il chat con l'M4 perché non vai con il nuovo shotgun a revolver... ce l'ho ce l'ho... l'ho tirato fuori apposta ieri... da qua... andiamo... perchè poi il chat con l'M4 è l'M4 che ti danno all'inizio... all'inizio... all'inizio wipe... dobbiamo sparare ai piedi con i buckshot o... vabbè che al momento si spara in faccia a tutti perché... a prima prova fa cagare ma se uno ci si mette sotto da soddisfazione... io l'ho usato con... con lo scav e... e mi sono divertito un botto... ho usato i grizzly... eh ma che c'ho questi qua e ho tirato fuori questi quindi uso questi... ho trovato la chiave... ah l'unica andare a custom... andiamo di custom con... questo qua... e... sanguinamenti... ma anche le vende... ma facciamo senza... al momento i splint... painkiller... cure... ne ho abbastanza... vediamo un altro IFAC... Iagret ti vende pure gli slug... se preferisce far accia da lontana... sì... arriva l'U1... penso... ah andiamo così... che se ne frega... tanto... tanto per divertirci... qui le azzurine... ah... questi qua... gli slug... ok... perché anche questi non sono mali... direi... sono quelli giusti vero? sì... 7 mm sì... ma senti... ho questi... proviamo questi... che se ne frega... però hanno colpo singolo... sì... gli slug nel senso... quelli che sono... sì... colpo singolo dice... sì... ma infatti sono quelli un po' più... un po' più performanti... sono nuovo su tarp... cosa devo fare per iniziare a livellare e guadagnare qualcosa? soffrire... soffrire... tanto... è un processo molto lungo... e per i primi mesi... soffrirai e basta... sarò sincero... guardati i video... sia io che Killner abbiamo fatto dei video... sul cosa fare a inizio wipe... e un po' di guide in generale sul... sul come giocare... e di altro... ti consiglio sempre gli stessi... gioco offline per imparare mappe e imparare a sparare... gioca da scav... perché così non perdi niente... ovviamente al massimo tiri fuori qualcosa... e di altro purtroppo... non ci sono dei trucchi o segreti strani... ciao Bedro... ti ripeto questi rossi... ora la rosata non è troppo ampia... ma infatti... ho visto che non sono male... ho visto fare cose interessanti... scusate... l'ho già un attimo che mi ha mandato dei messaggi... io voi... stavo rispetto ai messaggi di Mattia... non so se è qua in live... ma... sappi che ti invidio per la connessione... Nikita di questo passo... rimuove lo sprint... ci vuole trasformare in... in... in arma... Nikita c'è una faccia... sì... ogni pot... ogni... come si chiama... quindi fa tutto lui... cioè... è l'unica persona che si conosce di... di Tarkov in pratica... cioè... ha il canale su Twitch... fa le... annuncia le nuove patch... tutta sta roba... c'è anche uno dei video più belli... più belli della storia di internet... su Nikita... com'è... Nikita... siccome se c'è tipo Nikita... speak English... una roba del genere... eh... dov'è che fa... quando si... si impapina... Nikita can't speak... com'è che si chiamava quei video... c'è tutta la compilation di lui che non... che non sa parlare... tipo... prima di tutto... voglio dire... che il mio inglese non è sufficiente... eh... perchè... il Tarkov in pratica... mi rende più russian... e meno umano... Russia... you know... oh my god... Russia... ...l'ho cambiato a russian... perchè... perchè... posso... molte persone... mi chiedono... ma siamo... ok... do you have your instagram? eh... we'll... 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 ha 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 We will be, we will be No, 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 no Evora, che questo bellomino qua, Nikita Vassa che scrivi Wir, 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 wir Esatto Sì, in effetti Ciao, sbroda Bene, andiamo a fare schifo col poma Perché io ascolto e vado in giro con questa arma In realtà perché volevo provarla un po' che ci pensavo e volevo provarlo. Dove siamo? Scusa, c'è uno spawn qua dentro. Credo sia la prima volta in vita mia che spawno qua dentro. Da quando è che c'è? Mentre la parte posta dove devo andare. Caricatore random che non ho ancora visto. Va bene. Sì, sì, c'è. Ah beh, sì, non lo metto in dubbio. Ci sono appena spawnato. Però non avevo mai visto. Qua sarà meglio passare di là? Adesso non mi sapevo in più. Bellissimo quest'arma, mi ricordo Fallout 4. Un po' sì. Sì, perché... è molto... tipo rudimentale, no? Ah, vabbè, uscire con gli 8-5-5 è comunque stata una mossa saggio. Fermi contro F. Mi fanno a casa senza senso. Forse per giocare alla roulette russa. What? Queste chiavi credo facciano tutte schifo, ma si vendono meglio di... Vabbè, aspetta, c'è un CMS con due use. Facciamo così. Eeeh... CTRL-F. Cos'è CTRL-R? CTRL-R. Ah, CTRL-R. È un altro pulsante sulla CTRL-R. Mi devi dire che cos'è. CTRL-R credo di avere... di averci messo il fix... CTRL-R. Ah no, aspetta, CTRL-R no. Non lo so, presto me l'ho cambiato e quindi ho paura di premerlo. CTRL-R. Sì, questa strada non è massimo con quest'arma. CTRL-R. Ah, serve per vari... eh no, forse no. CTRL-R. Non è stato così interessante. CTRL-R. Ahah. CTRL-R. Non ho ben capito a cosa servo, onestamente. CTRL-R. Se mi dico che vuol dire... CTRL-R. Ah, ok. Eeeh... CTRL-R. Se hai dei tipi di colpo diverso... CTRL-R. Magari hai uno slug dentro che vuoi sparare da lontano... CTRL-R. Però quando entri nei dormitori vuoi cambiare in un... CTRL-R. In un bug shot... CTRL-R. Cambia. CTRL-R. No. CTRL-R. Lo scopo credo veramente che sia quello. CTRL-R. Dovendor me becca lo slot vuoto col colpo sparato e non spari. CTRL-R. In che senso? Cioè se adesso sparo dici? CTRL-R. Perché lo mette a metà? CTRL-R. No, non capisco. CTRL-R. Cioè dici... CTRL-R. Ah, ok. CTRL-R. Boh, non so. CTRL-R. Può essere un po' di tutto. CTRL-R. Cioè non... CTRL-R. Credo sia una cosa senza senso di base. CTRL-R. 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 però mi riuscirò andando a fare una quest, poveraccio o quello? ok, bisogna esserci un po' più vicini ma che roba che cazzo è andato? vabbè ah, ma ho preso pochissimi colpi? ah no, ok, un po' se no non lo so, me l'hanno consigliata me l'ha consigliata Fonsi e niente ce l'avevo lì, non ho resistito ma che sarà sempre lui, però non si sa mai è modabile? non lo so ah, puoi cambiare la canna, ok ma non lo sapevo cioè, vedi, i nostri paliaci esco pure con le spara-palline basse che sono automatiche quando invece ci sono questi pezzi ma... non è da dire anche la doppietta anche quella l'avevo sullo scav l'ho provato sullo scav a me i pompa sono sempre piaciuti io dopo che finivo di fare la quest quella di 153 cioè, poi, non devi usare quello però sai, quella che devi andare a sciola a fare hatch, tutte cose simili e si usa la mia P153 per forza è l'unico decente per fare hatch shot, perché sennò come cazzo fai con gli altri e continuavo ad usare dopo che avevo buildato un po' di quei fucili continuavo ad usare perché mi diverton troppo ma per far diventare i cecchini pompa non è che conta la canna contro il colpo perché se usi i bug shot sono quelli che si aprono se usi gli slag sono quelli singoli quindi basti così quelli singoli in realtà non cambia sostanzialmente niente da un da un AK un M4 alla fine per come va il colpo la differenza sta nel colpo quindi la 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 va bene cazzo mi ha sparato c'è spuglio vivento, ma diocanto mi ho pensato esatto, WMP, eh non lo so, .45 sì, immagino che sì dai ma che polle allora, questo qua si vende le chiavi non mi ricordo se servono, non credo questo si vende e niente, rimettiamoci il nostro M4 e torniamo in là, delle cuffie le ho questo che però non va bene non abbraccio questo e mi metto le cuffie della morte anche se mi fanno un casino bestia ok ho finito il CMS no, ce n'è ancora uno perché questi due qua trovati in raid servono per per una quest di Jäger se non sbaglio o qualcosa del genere possiamo dire che saresti morto con qualcuno ah sì 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 magari se non mi giravo guardavo l'altro schermo e non morivo ma probabilmente morivo lo stesso lì ci fai ben poco quando decidono di mettersi così non c'è spuglio non c'è non c'è non c'è che andavo i rascioni di dorms eh, è probabile o mi ha sentito e ho visto e si è fermato lì oppure oppure sì oppure aspettavo la gente che andava ai dorms ma è che poi non ho colso neanche molto in fretta cioè sono mi sono preso anche un po' di tempo vabbè custom piccolino non c'è bisogno di mangiare ho assicurato la chiave perché sono furbo ma va bene così dai eri italiano eh infatti ho letto ln nero come si chiamava ciao sardus si è messo lì aspettando qualche streamer che uscisse da lì non trovo non trovo praticamente mai gente lì sopra in realtà che capra credo sia tipo il primo in due wipe credo veramente sia il primo in due wipe ciao mattia ho appena iniziato in realtà sono arrivato tardi oggi oggi sono arrivati super tardi in realtà sono le due che vuol dire che sono già qua da un paio d'ore però vabbè ho cazzeggiato molto io sono entrato una volta a combattere ad orms è un casino eh con le inerzia si anche io ci sono andato un po' di volte già e è strano è molto 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 strano infatti non so quale sarà il metodo giusto per muoversi con sta roba dell'inerzia generale auguri mi piace come quando la gente scrive che sta iniziando a giocare a tarco solitamente sono auguri in bocca al lupo mi spiace la tecnica del momento è semplicemente non correre eh però se sanno da dove arrivi se ti sentono comunque arrivare perché ti sentono e ciao ballo era un po' che non ce l'avevamo si ciao e se ti sentono cioè comunque anche se non corri sporgerti da un angolo fai una brutta fine no dai ballo si ma non ti posso prendere addosso adesso dai non posso prenderti addosso adesso dopo ti vengo dato a mangiare dai faccio sto ride e ti vengo dato a mangiare dai ok si non far vedere i culo a tutti vai vai a fare cose da gatto a prescindere cioè ora se tizio si infila su una porta e tu non sai qual è quello ha il vantaggio rispetto a te si e vieni a correre e piccare tutti quelli che amperati nelle porte eh si adesso non lo so dai maldo non puoi essere qua adesso dai faccio questo e ti vengo dato a mangiare mi sembra che tu sia comunque abbastanza in carne non hai bisogno di mangiare ogni due minuti eh si non stai morendo di fame te lo posso assicurare vado guarda una cosa di cui sono certo è che non stai morendo di fame avete dato il cazzo questi spawn della minchia vai a fare cose da gatto Tarkov vai a fare cose da gatto Tarkov di voi stamattina state litigando con i vostri correttori automatici c'è comunque ehi stop shooting me io ci ho provato a tutti i testimoni che glielo ho chiesto gentilmente in esse si stavamo correndo tutte e due infatti ci siamo ci abbiamo messo un quarto d'ora per bloccarci ci siamo piantati è stato abbastanza ridicolo ma non avevi neanche colpi non avevi un rig ma che cazzo ma che cazzo ma che cazzo ma miscio ci siamo visti e sono passati tipo 5 secondi prima di iniziare a spararci è stato abbastanza ridicolo te lo e il firma ho avuto vantag- ehi io lo so ehi ehi Sì Lo starò facendo Mi ha spatto e è andato via Ok Alla prossima Non lo so non ho capito Onestamente Sarà lo scav a chi ha sparato O che è successo Questo motivo credo che Proverò ad andare via Andare a prendere un tipo In sto caso adesso è un po' un casino Non ho ancora ben chiari quali sono i movimenti Poi una volta ti ci abito Ma non sarà più un problema Però per adesso Dimmi che ti vedo Attenzione è in vantaggio Se lui mira il tuo angolo Sì quello sì Sì in quella zona Infatti ero Ero proprio lì Tranquillo Dato che cazzo vuoi che ci sia Giù di qua È difficile trovarci qualcuno Cioè più che altro Dal suo spawn La strada che stava facendo Non lo portava da nessuna parte Perché se doveva fare questo Tarcone Potrebbe entrare direttamente Se doveva andare Dal lato d'Orms Doveva venire In questa direzione Quindi Il gatto che faccia Faccia da gatto drogato Ciao Ale comunque Mentre riesco al swiper Io giocare ad Halo Eh che c'ha fame Bado Stamattina gli ho dato Una scatoletta piccola Invece che quella grossa E sta impazzendo Ecco Ho capito che parlavate di lui Bravo Bravi Non richinare Perché se no Non recuperi stamina Adesso Vacca boia Che c'era questo Non con me direi Io poi Non mi ricordo neanche In che cazzo di stanza Devo andare 206 Tre piani vero? Due piani E' lì E' lì E' l'acqua E' l'acqua Non mi ricordo un cazzo E' a due piani E' l'acqua Pensata Non mi ricordo assolutamente Due piani Eh ok No Non mi ricordo proprio Non so perché Ho convinto Ah Altre piani Dovamo andarci Per trovare la chiave L'altro giorno Che poi non è servito Ok Ok Sono un attimo Ricoglionito Ok 206 Due piani Quindi ok Questo non è che ho controllato Se no entravo diretto Qua tranquillo 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 c'è già aperto un player per me era un player perché non ha parlato di solito gli scalf sono più cortesi prima di spararti ti avvisano con il mio bar di home ho terminato di tirare un passo ehi I can hear you ma c'è qualcuno? una scav? me l'ha solo parlato di sparare mi scherzi ha messo il push to talk sul pulsante sinistro del mouse è sbagliato ci sta adesso ne sta stanza si ciao come cazzo fa così adesso muoio se faccio così ehi quindi questa ricordo che c'erano i barili fuori quindi è sceso da fuori ed è entrato da qua sotto cazzo questo non l'ha fatto scusa non ho capito il bait del voip ma non ho l'avevo sentito comunque visto c'era qualcuno non stavo dicendo cazzate avevo sentito un passo prima quindi deve mettere a piano di sopra in fondo esatto poi secondo me era in fondo poi a un certo punto è corso fuori perché aveva sentito ferro non so perché è rientrato qua dalla parte principale non so che cazzo stesse facendo onestamente io qua anche se muoio posso fare la quest non fare un cazzo no si survive e sti cazzo allora lo vado a lootare dai forza scoprite chi è dobbiamo scoprire chi è livello 31 streamer sette 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 ho sentito farlo ehi hello hello are you friendly yes um shit I'm just going away, if you kindly could not shoot me cazzo volevo vedere cosa c'avevo qua dentro prima, mi sparerà il tipo eeeh vacca merda poi, che cazzo lascio giù? ma che cazzo aveva questo? non ho trovato sta roba no dove cazzo sto andando qua? ah i colpi, vabbè pace eh sarà stato con un suo collega che è morto secondo me e stava portando via la roba avevano lootato la market sicuramente l'ho medicato quanto è rilassante e terrificante allo stesso tempo girare costi elmi era tutto family ride? no? vabbè sì ok la ca... ah sì ok questi due sono del... della market davvero sì 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 c'ha ragione tra l'altro gli ho disfatto la faccia per quello che non veniva giù c'è l'elmo che è distrutto livello 30 in due giorni a wipe e fai ste mosse è quello che ti metto ma non ho veramente capito cosa sia successo in questo momento o credevo fosse uno scub guarda dobbiamo trovare chi era cazzo un livello 30 non è che saranno tanti a questo punto le wipe andiamo su Twitch a guardare i primi in alto, saranno di loro l'altro stava facendo la quest, no prima l'ha già fatta quella degli AK secondo me comunque l'ultimo che mi ha parlato non era amichevole dalla voce non mi convinceva l'altro con l'elmo di taghilda e l'armor ed riga a livello 4 ah è vero perché non puoi più comprare l'hast adesso quindi se non la trovi la roba sono cazzi tuoi quindi anche i colpi merdosi sto wipe serviranno alla fine ci sta a usare dei colpi mediocre anche a fine wipe cioè magari fine no però a metà non ho devo bere come c'è nonna cazzo sta succedendo cazzo sta succedendo pp scusa ciao ma puttana merda non viene starmi io provo ad andare in full auto ah non è mio sto, me l'ho trovato un tipo prima se c'è un M4 in mano mi viene distinto pensare che sia un'arma decente che sta ferma invece mi merito sempre che siamo le puttanate al momento il tipo era l'osco concorso sembrava il classico momento con mamma che ti dice vieni qua che non ti faccio niente esatto non so perché ma ha dato questa impressione anche a me non so perché ciao Parsifal secondo me era l'amico del tipo grosso che stava gli altri piani questo ah no quell'altro eh ci ho pensato anch'io infatti boh ho rischiato a lutare però tanto non avevo niente da perdere quindi ci ho provato e poi mi sono levato la svelta ho anche lasciato giù tipo un elmo comunque due robine che non erano brutte devo uscire qua io vero? ok ho già visto troppe volte questa scena ciao quelli come loro se li muore un amichetto li bagano le robe si è vero la fanno tutti gli under 18 anni sta roba che si sentono uno sotto se buttano da piani di sopra prese le citazioni infantili a caso ho dato troppo ero di code l'ultima pace avevano buffato parecchi colpi quelli poco penetranti non ce l'ho presente 3 pmc 16 hit count per ammazzare 3 persone vabbè ci sta assurdo mi sto innumorando del tuo modo e di questo gioco ma non ho il coraggio di prenderlo a caso della sua complessità oddio allora purtroppo il primo periodo di sto gioco si muore e basta lo dico sempre non c'è questa la tengo perchè voglio sapere chi è non c'è da girarci intorno si muore male di continuo e basta purtroppo quindi deve piacere il gioco e vado ad andare a mangiare il gatto adesso vado ad andare a mangiare il gatto scusate perchè sennò non vivo più andiamo baldo andiamo a mangiare mi metto in code da scaf poi andiamo a mangiare aspetta aspetta andiamo dove andiamo a light house andiamo a light house dai andiamo ti do a mangiare vieni dai dai ti do a mangiare e andiamo a mangiare ...son qua, tanto sicuramente non gli è piaciuto quello che gli ho dato quindi tornerà a rompere una minchia. Comunque dicevo che se mai iniziare a giocarci devi metterti in testa del fatto che si morirà parecchio e devi dire mi piace il gioco voglio imparare a giocare quindi poco alla volta imparerò perché sennò dopo una settimana ti installa. Come nel gioco prendi banale all'inizio però anche se le prendi su code dici vabbè sti cazzi rientri una partita dopo e giochi qua poco alla volta perdi tutto rimani senza gear, ti deprimi e inizia a imprecare satana quindi avevo l'acqua da perdere ma una volta fatta poi basta che sono quelle quest che basta che esci a caso un'altra mappa e la fai quindi... non penso sia complesso tal come solo pesante no almeno è anche anche complesso è anche complesso c'è penso a tutti i vari colpi che c'è uno che inizia senza sapere niente tutte le armi colpi attachment che hai tutta sta roba c'è come fai? no baldo dai no sei tornato no baldo non mi interessa però c'è un limite a tutto ti ho dato da mangiare te lo mangi hai sempre mangiato a te vi serve la guerra a voi gatti ok dovete fare la guerra poi vediamo se l'ho mangiato quello che vediamo perché una cazzo di scatoletta col tonno e i pescetti oceanici me la mangio io ok perché è buona non vedo perché tu non te la debba mangiare porca troia e costano alcun botto faccia di merda sai quanto costa il tuo cibo no dicevi perché non fai altre guide per il gioco tipo chi vendere dei png gli item per ricevere più soldi boh io volevo costare in questi giorni gioco ma allora di guide ne ho fatte tante se le guardate tutte secondo me più o meno ho coperto tutto a chi vendere dei png sicuramente ne ho parlato perché mi ricordo di aver detto cosa che confermo che bisogna vendere a giro a tutti per livellarli quindi bisogna vendere a tutti poi dopo tipo due giorni ti accorgi che un png ti compra determinata roba uno un altro uno un altro quindi se devi vendere delle delle armi per dire jager non te le compra la therapist non te le compra ragman non te le compra quindi per quello non è complicatissimo altre guide non lo so onestamente fare guide troppo nello specifico troppo come si dice c'è di cose troppo particolari l'unica cosa che farei al momento sono tipo guide sulle armi o sulle quest ecco sulle quest probabilmente perché è una delle cose quella era la mia giusto le quest perché è una delle cose un po più complesse magari ci sono alcune quest complicate che ci sono dei trucchetti per farle cose simili 107 non mi ricordo qual è a chi da dopo nella storia giurano inside the road side convenience store che cazzo di chiave è questa ragazzi sapete voi non mi ricordo assolutamente non mi ricordo penso a fare come me tre scavate e una pmc ma ci sta sono si deve giocare da scavo mi deve giocare da scavo infatti ci sono sempre streamer pro player o altro che non giocano da scavo perché si perde tempo perché bisogna livellare i pmc cazzate del genere mi diverto quindi anche giocare da scavo non mica mica un problema tra l'altro impari le mappe è una delle cose migliori all'inizio di giocare da scavo chiaro inizio da scavo cioè se entri vai verso l'uscita ed estrai perfetto hai fatto quello che dovevi fare hai guardato un po la mappa ha imparato un po come è fatta la mappa ti sei tirato fuori il loot che vabbè ok fa schifo ma è gratis almeno c'è qualcosa da usare quindi insieme a quella possibilità di usare lo scavo riesce un po che tirate su qualcosa da usare si esatto non puoi parlare così a ballo tu sei il suo servitore io ho due gatti e sono i padroni casino tra e sono anche loro i padroni di casa quindi tra l'altro c'è zella qua dietro non so se si vede tra l'altro c'è zella forse è girata ah no perché è sotto è nel non la vedete mi sa qua visto di solito sta sull'amaca quella più nata oggi invece è più giù non si vede e l'hemi ultimamente se l'ha meno un po e l'hemi non si fa più vedere gli ho fatto le motte le magliette tutto quanto l'hemi poi non uso più la scatola allora dove cazzo sono? villaggio vecchio quindi se noi andiamo di qua poi tiriamo su a destra in teoria arrivando a qualche parco non so non so la 107 che chiave è non mi ricordo ora con le led fai i soldi 3 esa e 2 rolli una scheda grafica 2 motion e qualche arma guardate madonna no sull'ight house si fai un botto di soldi se vuoi farli io non voglio farli vengo qua solo per sparare ai tizi però si se vuoi farli li fai in realtà con la wiki non c'è bisogno di nessuna guida particolare meglio capire le meccaniche in gioco e l'importanza dei colpi si quello quello sicuramente però una volta che ha fatto quelle due consigli su alcune quest magari fan comodo quello un po più complicato ovvio che intanto c'ho il mouse che è impazzissimo ma è perché c'ho il tappetino pieno di peli altra merda non l'ho pulito in sti giorni fa schifo è ovvio che quelle quale lì consegno a sto oggetto non c'ha molto da sapere però devo trovare alcuni oggetti che strade fare per arrivare in determinati punti cose del genere anche per le mappe alcune scorciatoie soprattutto a custom visto che una delle mappe che si fanno di più e ci sono tantissime scorciatoie salti cose simili le cose leggendole ci potrebbero stare trova qualche amico che inizia gente nel discord e quale raidare sì sì giocare con qualcuno è la cosa migliore dico sempre non che sia troppo esperto che vi porta in giro perché quello non si impara così però sì qualcuno che è appena iniziato quello sarà un rider sì c'è la bella clava ghost quello? no quello non scavo sì quello non scavo direi peccato era lì bello fermo le mappe sono facili da imparare no cioè in linea generale sì alcune sì cioè qua c'ho l'entrata cioè se spono qua ho l'uscita là e là ci arrivi dopo qualche volta che la fai più o meno ci arrivi il problema è che devi sapere i posti dove è più facile trovare qualcuno quella è la cosa più difficile devi imparare tutti gli spawn quella è la cosa più difficile che la gente non considera non so se sono scav normali però direi di sì sì c'hanno la tutina da scav i rogue non credo ce l'abbiano poi appunto tutti i vari passaggi scorciatoie e cose simili invece sono un po' più complesse l'importanza dei colpi è easy più costano più hanno penetrazione meno costano più fa andando la carne quello è vero quello è assurdo è vero sono un player main interchange si sono scav i rogue stanno ai lati no no sono andata al centro ieri abbiamo fightato una pattuglia di rogue lì in mezzo ieri erano lì in mezzo che giravano intorno a quel quel cerchio di cemento gigante non so cosa sia si spawnano dei gas analyzer in sto posto a light house intanto andiamo a vedere se sono i nostri amici ah non ho l'uscita sul tetto non c'è nessuno il gioco c'è anche in itassi ma non è tradotto benissimo da quello che so non so se l'hanno migliorato ditemi se qualcuno c'era in italiano ditemi non lo so un po' di tempo fa faceva un po' schifo mettiamola così che cazzo è stato qualcuno qua dentro sul tetto sul tetto oppacchi oppacchi erano già stati triggerati di solito girano vicino al magazzino e stanno sul tetto erano comunque là che giravano in tondo tranquilli non so non so poi cioè tranquilli nel senso che erano lì che facevano il giro in tondo a sto coso e l'hanno fatto per un po' di volte eccolo lì stanno guardando male stanno guardando male ma vaffanculo ce n'è uno sul tetto ma non c'era quando è saltato fuori ma non c'era guarda ma pensa a te beverly ma pensa a te ci ho anche guardato una domanda ma il significato di questo gioco è come quello di rust io appena riesco a prendere un buon pc me lo vorrei comprare questo no no è diverso completamente diverso cioè qua è la tua base vedi quando sei nel menu c'è la tua base con tutta la tua roba e non cioè non è che costruisci qua non fa niente qua c'è il tuo hideout che è è sto coso ma cioè non è che costruisci no è tornato ad ansimare il hideout e non non fa niente cioè c'è le varie cose da metterci dentro roba ma non non ha la stessa logica di rust sembri qua entra in game quando decidi una mappa dove andare entri tu con altre tot persone che dipende dalla mappa tipo dalle 6 alle 12 13 non so quali sono le mappa qual è la mappa più grande vabbè factory non la contiamo comunque sono 4 o 6 persone custom 9 e 12 no 9 e 12 credo o meno quindi dalle 9 alle 13 per adesso anche l'highthouse 9 e 12 come custom 9 e 12 reserve woods 9 e 14 10 e 14 comunque si è una decina di persone in pratica ah suburbs 6 e 9 persone ah no ma è random anche street of tarkov è 6 e 9 si 6 e 9 anche questo sono placeholder anche l'immagine è sempre la stessa non vuol dire un cazzo va bene ah terapist è tornato l'acqua tieni la tua acqua acquarius parte 2 uccide 15 scava custom si può fare devo andare a shoreline c'ho una quest una daily random di andare a shoreline 2p skipper cosa ho fatto una daily cosa mi dai un sks dei soldi tutta nato ci sono anche server europei ma tanto non ti cambia non è che scegli ripeto cioè tu giochi punto non ti cambia niente il server dove sei cioè come cod ok becchi degli altri europei fino eh prapor dove la metto io sta roba non me lo spieghi allora questi intanto andiamo a farla a quest andiamo a farla a quest a custom sarà anche rotto ormai questo cazzo di m4 questi so come direte ma credo finiranno ad un trader perchè tanto bisogna livellarli no tu sei già a post ah pskipper mi sa mi manca in 10k la test gear vabbè eh si mi sa che di buon mutant però lo usiamo così a merda siccome anche non m'ho dato non è male non è una merda come è stato non lo so no vengiamo sempre so che è mio di rete ma eh sì cavalli che devo averne anche abbastanza questa non mi serve più questo si può vendere questo si può vendere questo si può vendere i marker facciamo così aspetta c'è anche un po' del latte esatto eh relay non so quanti ne ho vabbè adesso compro un'altra scav junk box sono rotto i cazzo ah la capa del tipo ok quello per la quest che è eh madonna anche meno che loterò per fare la quest giustamente eh armored rig distrutto no è troppo schifo hai fatto il tuo vecchio così per curiosità questo quanto mi dà ragman 82k cosa facciamo ne vale la pena secondo voi ne vale la pena si usa si vende di solito quando iniziano gli sconti per Tarkov eh non lo so torno a Natale comunque quindi fra me li aspetto da un giorno all'altro magari ancora qualche giorno perché aspettano che chi ha la foto di giocare se lo compri adesso magari verso il 20 22 una roba così no cosa cioè vale la pena giocarlo o lo vendiamo 80k sono 80k e li vediamo anche ragman che comunque dobbiamo vendere della roba ora come ora ripara bene ah no quello è sicuro questo ti parla qualunque cosa che gira adesso su questo non c'è dubbio su questo vai tranquillo che non ci sono dubbi non ho un rig vuoto ma per il cazzo non hai bisogno di soldi no aspetta appena sblocchi i fleas spendi dei milioni per far light out con la nuova patch i file sembrano più lenti cioè se la per il nes mi sembra molto più umano sì sì molto 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 ti manda di natale o giù di lì eh sì esatto più o meno ma sti colpi sono del tipo addirittura se va a questi penso non è che non sono finiti acqua comunque i tre dei dei ci sono ancora ok gli 85 5 e 1 perché questi non si possono più mettere all'asta però ci sono ancora da skier livello 4 e pskipper livello 4 ok devo fare qualsiasi altro custom no gas analyzer vaffanculo chiavetto sb vaffanculo devo marchiare i 4 allora uno vicino a crossroads uno gas station uno old gas station ah l'altro è quello di proprio ok giusto credo di sì esatto ok bello ah mi spezzo un po' usare sto m4 perché fa veramente schifo senti prendiamoli la media ce l'abbiamo lì ce l'abbiamo lì che ci guarda era un po' come usarlo e allora ah merda l'ho messo m4 ok direi che non dobbiamo fare nient'altro non so se devo fare qualcosa no 55 per assicurare non mi tornerà niente di sta roba se mi ammazzano ma vabbè sono abbastanza certo che non mi torni niente i marker i marker che senso sì sì li ho presi devo fare quelli li sono messi in app house marker e scab in un momento devo fare più trovare roba la base dove ti trovi te la posso distruggere no 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 quando sei nel menu nella tua nella tua stash perché la stash dove c'hai tutta la roba o nell'headout non se proprio nel menu del gioco non c'entra in cool game ciao giurassic no no per quello che ti dico che come concetto è molto diverso da rust è simile a un survival come vedi prima di caricare la partita ed entrare in game sei completamente isolato da tutti già Lemmy c'è già passato anche Bado prima ha fatto esattamente la stessa cosa che la fai vieni qua vieni alla scatola dai Yabon c'è la tua scatola poi vieni alla scatola dai questo è molto più bello sono diversi qua c'è il problema che se muori perdi tutto quello si come rust in realtà quella è una cosa che hanno in comune ora si diciamo che qua ti imbrutisce un po' di più perdere la roba almeno non si perdono ora inutilmente su questo gioco in realtà si perdono perché a parte che ogni tot c'è un wipe che quindi resettano tutto bisogna iniziare da capo e poi col fatto che perdi tutta la tua roba ma mi sa che è appesantito il mio pg senti come si lamenta però dobbiamo ancora entrare vecchio cioè mi sembra un po' esagerato no no non ne ho appesantito e da quando è che ansimo così cioè mi devo fare tutto il cazzo di ride con lui che ansimo adesso veramente ok evitiamo di correre questa volta anche perché se arriva qualcuno non sento è il perché odio usare questi elmi quindi non sentire in sto gioco mi da un fastidio motivo per cui giro sempre ah il bug del casco no col casco sento il fiato questo sembrava proprio l'appesantito però è che non possono anche tirare sulla visiera con questo faccio così vabbè ciao foxer oh sei scemo mica stava saltando sul pc in cima al pc dove c'è il pussante per spegnerlo guarda la scritta in russo visto non l'avevo mai vista prima volta che c'è sto bug vabbè poi andiamo in là ma intanto ho ammazzato gli scav quindi mi sa che farò proverò a fare tutti i quattro i tank adesso se le cose vanno bene perché sennò faccio tutto un lato e poi faccio quell'altro che faccio prima cioè non faccio prima però è un po' più comodo si fa ammazzare gli scav gli m855 passano dove cazzo spara questo gli 855 passano a livello 4 o si fermano lì ormai si fermano lì no infatti ormai ci arriva una malapena non sono molto ferrato sulla teoria di questo gioco solitamente prendo su vado e prego dio che vada bene il tutto compro quello che posso per mettermi e spero che vada bene ti sei affezionato al casco ma si mi hanno mi hanno detto di tenerlo l'ho tenuto mi fido una volta che ce l'hai intanto non usare le cose cioè l'avrei venduto perché così facevo un po' di traffico di soldi con i trader com'è che si dice perché in realtà devi sia vendere che comprare per livellare i trader quindi in quel senso l'avrei venduto per quello non per per paura di perderlo o altro però già che è difficile trovare l'inizio del wild cazzo ne frega proviamo se si muore si muore se il gioco vuole che si crepi si crepa anche con questo e una slick addosso da uno scav col pop che ti prende nello stomaco quindi è andato dai girati ma fanculo c'è la giacca vero si se metti sotto un cappellino si sente meglio funzionava ancora ha volato che l'avevo fixato però eh ma i colpi ti possono imbalzare addosso quanto vuoi ma se becchi quello che che ti trita lo stomaco o un braccio sei comunque fottuto e si muore sempre così ogni volta che ti metti un'armatura se non ti metti niente ti tirano ecce il torace appena ti vesti bene ti tritano un braccio una presentazione due su sei verso i livelli quattro credevo un po' meglio onestamente credevo un po' meglio ragazzi ho sprecato tutto di colpi buoni contro l'edità ma è quel primo ma è sto riga una bomba un po' un po' un po' questo c'è un po' si 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 anche perché ha urlato se urla non sono bot i player non stanno ad avvisare della loro presenza prima di spararti torace e braccio cosa dicevamo siete due sono sempre lo stesso dai veramente fanculo ce n'è un altro no forse non la prima sette avevo la sottiletta l'ho convinto ad avere un infac sul 4 mi stavo curando il sanguinamento invece era una sottiletta di merda sembrava diverso con l'altro che mi sparava eh abbiamo visto giorni migliori comunque si eh san casco si 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 sto giro sto giro devo ringraziare il casco non ho da dire a riguardo eh c'era quell'altro c'era quell'altro che chissà dove cazzo era andato vacca la merda dai ma pensa te che palle pazienza tra l'altro era quella l'impatto mi faceva capire eh probabilmente si era immaginato o mi ha sentito o mi ha visto cioè si era lì che girava ma ci ho anche pensato ho detto sto posto è un posto di merda per curarsi e sarei dovuto andare ben più lontano sarei dovuto andare un bel po' più in là però ha detto se c'era qualcuno ti ha girato un po' all'intorno non ho non ho visto nessuno nessuno mi ha sparato ho detto beh non sarà qua e invece era lì e vabbè pace allora delle cuffie ne ho ancora mi sta esplodendo la testa penso che oggi gioco un po' meno perché le 200 ore di stigione si fanno sentire sembrava tutto sicuro è uscito ah infatti tra l'altro cosa era d'impatto perché non ho sentito niente cioè non che non sarei mai riuscito ad andare via ci mancherebbe però non ho sentito non l'ho sentito arrivare c'è proprio sentito click boom due spari super people no no finché gioco gioco questo allora allora dragman rimo vabbè per i pezzenti non è che ci ha appena salvato la vita dai facciamo un giro qua custom al volo che proviamo a marchiare poi al massimo facciamo la scavata le cure ce le ho non ho il cazzello qua c'è un pio no mi sa che non ho più finito che palle ce l'avevo vabbè va poi ben così facciamo un altro giro che marchiamo ah gli scav sempre ci metterò due anni se vado avanti cosa fare quindi ci scavo un altro giro Questa era veramente la decima volta sto wipe che muoio da un duo barra trio quando giro da solo. Ed è veramente stressante morire sempre in inferiorità numerica. Diciamo che ci si mette molto di più a fare le cose da soli ma molto molto molto. Oltre che per cagate tipo se uno ha le chiavi puoi andare se invece sei da solo cioè se un tuo amico ha le chiavi puoi andare se invece sei da solo non ha le chiavi la prendi in culo. Fare alcune missioni dove devi piantare della roba dove devi lasciar giù roba sai dove devi stare lì tipo fermo 30 secondi a piazzare un oggetto di merda. Mi sembra giocato da solo mi sono fatto certi travasi di B. Anche io gioco sempre da solo in pratica. Gioco ogni tanto con gli altri ma la maggior parte del tempo gioco da solo dove sta andando. Ah gas station dovevo piantare il... Era di qua o di là? Di là? Vero? Si. Vediamo anche la stascia che sono qua. Per caso si possono anche trovare dei veicoli? No non ci sono veicoli. Si va solo a piedi qua. No no non sono neanche previsti. Ci sarà in realtà il taxi su Street of Tarkov. Però nessuno sa ancora di preciso cosa sarà. Se si potrà... Cioè in realtà non lo uso. Adesso che ci pensano hanno puttanato. Non c'entra niente. Ci arrivano solo i png. E praticamente basta. O magari lo userai per andare da una parte all'altra nella mappa ma saranno off game. Cioè non si vede. Non c'entra niente. Vai tranquillo non c'è problema. Non c'entra niente. Grazie a tutti Sì 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 Quello lì che hai detto tu Sniper Tre basse Old gas station E Magli si aggiungono i carri armati Non è un gioco adatto Guardi il gas station quello? Ah proprio Ok facciamo il giro di qua Dato probabilmente le qua si farebbe molto prima Cioè si farebbe prima livellare Se una la smettesse di correre e basta come faccio io A metà delle volte muoio perché corro Senza Senza pensare a dove sono e a che ci può essere Sì 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 Ho sentito il ferro però sono solo passati e sono andati via Non so dove siano andati ma Sì La mia spalla è camminare che spesso diventa gambe rotte e strisciare ansimando Il primo Ride che io ho giocato a Tarkov In live Ehm Uno scap mi ha rotto le gambe tipo 10 metri dal mio spawn E mi sono fatto tutta la mappa Zoppicando Con uno in chat che mi disseva dove andare Una roba oscena In quel momento ho detto ma siamo proprio sicuri di voler giocare a Tarkov Secondo te il fatto che poi di un ora se si muove nel reticolo è una cosa voluta sì 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 Eh così Sempre così Poi cambia Perché cambia Cambia in base a Non so le tue abilità in realtà Quello non lo so Però quanto è Tipo lunga l'arma Non so Se conta l'ergonomica Comunque da arma a arma cambia Ecco mettiamola così È proprio una roba Una roba fatta apposta Il pick up è inutilizzabile Si l'ha nerfato il wipe scorso e È diventato osceno adesso L'ho fatto apposta perché Giocavano tutti quello Adesso c'è il delta che secondo me è il migliore Cioè a me non è quello che piace di più Il delta point è bello Sì il pick up è osceno Questo è quello più economico in realtà non è neanche malissimo Cioè per essere così economico non è Non è male Però si ce ne sono di molto migliore Dimenticare 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 Grazie. Non ho capito che sono qua dove sto andando io o sono più in là? Secondo me sono più in là però. Sì sì ok sono più in là. Questi. Gli altri che sparavano potrebbero anche essere. No qua a gas station no. Secondo me sono comunque di là. Sono parecchio più in là. Sarà resciale secondo voi? Ma è questa che devo marchiare? No ah sì ok. Per un attimo ho avuto il dubbio. Potrebbe esserci resciale. Dal casino. Aspetta un attimo facciamo la quest così. Almeno per quello siano tranquille. Il patto libro forse costa di più. Rapapapapapan questa è in fondo in fondo. Si vede qua? sawност lowisca. Orde? Gli altri cavallili, Molto bollino vendo la luce? Tu quindi la propria willa dove adicuni. Butto questo? È in fondo. Ogro 아니라. Ho sorrisco. Non capisco la logica, lo spazzamento di reddotto non è realistico. Non lo so, onestamente non piace neanche a me, perché vedi quando ti sposti in strafe, secondo me è solo per complicarti la vita quando sei in strafe sostanzialmente. Non saprei, onestamente. In una mappa con 6 persone ne vengono killate 5, per l'istante time si è soli con gli scav, 6 con gli scav e con gli scav player. A parte che non sai mai quanti c'è di sicuro una mappa, perché puoi essere in 6 come in 9 appunto, c'è un numero da A, o gli ammazzi tutti tu o non sai chi muore. Quindi è difficile avere una certezza. E poi ci sono gli scav player, sono i player che possono entrare con il loro scav e ti becchi quelli. Questa non è la cosa più sicura al mondo da fare in realtà, con il fatto che si emenavano prima. Fa un culo se spugliano. Quindi tenevo questo quando dico correre a caso. Senza controllare. Quello vero è che ho io, non si sposta. Ah ok. Te l'ho detto secondo me è solo per dar fastidio come meccanica proprio. Perché non è che si sposta i reddott, sono le braccia che si spostano in pratica. Quando tu vai in strafe sono le braccia del PG che un pochino tipo slittano di lato ed è per quello che i reddott si spostano. Non è il reddott in per sé. Non è il reddott in per sé. Guarda questo. Non è stata una roba carina sappiatelo. Questi mi servono. Non mi ricordo cosa mi servono. Ma che siamo sempre lì sbloccati i fli. Non è che mi cambio. Facciamo che passiamo da qua. Questa cosa è l'inerzia. Allora è una bella idea. Ho paura che la pratica invece sia semplicemente che avvantaggia chi sta fermo a camper. Adesso pushare qualcuno è veramente troppo complicato. Non lo so. Non mi convince del tutto. Cioè è più bello il gioco perché dice oh che figa almeno ci sono i movimenti un po' più. Ti sembrano reali. Prima facevano dei cambi di direzione che neanche su quake. Però in pratica adesso boh. Peccato che non è in italiano. Cioè è in italiano come dicevamo prima. Ma non so come è tradotto. Una volta era tradotto male. Adesso non lo so. Tracciando. Aspettiamo così non dobbiamo tornare a fare sta merda di questo. Credo di essere stato incredibilmente fortunato. Il mio scav è spawnato con la tessera di la bianca. Se più hai alto il calma tra l'altro in teoria più ci sono possibilità di avere cose fighe con lo scav. Da quello che sapevo. A me questo wipe è capitato tantissimo eh. Io ne ho già trovati tipo 4 o 5 così. Eh. Quattro delle quali ho perso perché siamo andati a combattere il rovo. Però vabbè quelli sono dettagli se... Se volete evitare di perderle basta non andare a morire. L'italiano c'è ma anche sulle wiki quello sì. Il motivo per cui io in ogni caso comunque sia gioco sempre a tutto in inglese. Se devo cercare qualcosa, parlare un video o altro. Mi risolvo quel problema così. Quindi non potendosi chinare adesso per la stamina è un po' un casino cosa fai? Fai un po' avanti e indietro. Che però colinezza fai avanti e indietro e sei lento come la merda. Beh dai abbiamo ammazzato uno scav per la nostra quest. Niente male. Not bad. C'è la barca, c'è la barca. Quando non gli dai... E quando non ci credi abbastanza che vai da un'altra parte c'è. Se invece vai là non c'è. Secondo me aspetta di vedere che strada fai barcaiolo qua. Ho fatto sta quest che secondo me ne sblocca anche un paio. Cos'è anche più di un paio. Secondo me ne dava un botto sta quest. Colpi usati 4 colpi a segno 4. Un momento l'avevi sparato in testa pensata. Tutto proprio ti ho marchiato tutto quello che volevi. Ah due. Allora. Obtense col folder. Ah serve la chiave che non ho ovviamente. E... The bunker. Parto da uno. Eh... Reservo. Ok. Ah... Portable bank house key. Me la da qualcuno in qualche modo. Tarkov portable bank house key. Quindi in pratica posso fare solo un accesso all'hub e la tessera scompare. Sì esatto. Devi avere la tessera nello zaino e quando il momento in cui ti finisce di caricare la map e sei sull'hub ti sparisce la tessera. Per fare questa quest non so se avete presente qual è bisogna venire in questa cabina qua a custom che è in questo gabbiotto qua. C'è scritto che con una forza abbastanza alta si può saltare sul tetto della cabina e metterlo lì. Non lo sapevo. Adesso probabilmente non si può più fare con l'inerzia in realtà. Adesso probabilmente non si può più fare. Però non lo sapevo sta cosa. Comunque non te l'ha da nessuno questa quest, bisogna trovarla. Molto bene. Molto bene. Ovviamente non ce l'abbiamo, vero noi? Così per caso. Abbiamo un'arma da intenditore. Andiamo a cercare il gas analyzer. Quindi la gente è uscela i you wrongxi e abbiamo tutti instrumentalizzati su Breeze. Concierto che ci sono tutti e il regraio straight a iboo. Andiamo a cercare l'itore e il songs hop? E adesso новò con l' 보�to, vi questi mostri mai. No te c'è un'arma d öyle compa? Comunque non leurmini non tutte le domande passiamo. Indubo bene. Per fare questo passiamo. Ha detto qua. Tutto bene. Grazie a tutti. 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 A te l'ho trovata sugli scav. Non credo che la dà nessuna. Tu? No, non la dà nessuna. Non c'è neanche uno spawn fisso. Devi proprio andare a culo. C'è scritto che c'è nella stanza sopra factory. Quella che devi sfondare col calcio ma c'è scritto che in realtà è bassissima la possibilità di spawn. Diciamo che non esiste in pratica. Andiamo a vedere le stash, poi entriamo direttamente. Anche qua siamo proprio vicini alle stash. Chiamo vicini anche a Ikea. Noi guardiamo queste qua. Magari ci troviamo qualcosa di buono. Non so che mi tocca venire a fare 200 giro. Dai veramente? Cazzo sai? Non lo vedo neanche. Ma eccolo là. Non ci credo. Perché sto fucile te lo dà scarico all'inizio del ride? Perché è l'unica arma che ti dà scarica? Pensata. Ehi! Ah era a destra. Dai sta arma guarda che non ho capito. È l'unico fucile che ti danno scarico all'inizio del... Ma l'avevo anch'ittato. 16 danni. Come goglioni. È l'unica arma che ti danno scarico all'inizio del ride. Non so come mai. Si è tempo lato fuori e poi l'entra. Eh sì, c'erano tutte le stash lì infatti. Sì, comunque offline puoi provare quante volte vuoi lab. Vero. Penso sia casuale. No no, questa sempre. Sarà la quinta volta che mi capita da scav quest'arma sempre scarica. Mai trovata carica. Per quello che dico che secondo me è così. Mi sembra veramente troppo un caso. È un caso troppo strano. Non mi ricordo più cosa mi ha dato. Che questo mi ha dato proprio. Ok. Nessuna che riesco a fare. Molto bene. Uccidere scav a casa. L'unica cosa che posso fare al momento è uccidere scav a custom. Cioè non posso fare altro. Sta qua, non serve a niente tanto. Si blocca lì. Ah, sta merda qua. Queste qua le farò poi con calma. Cioè non con calma ma le farò quando mi metto lì e le faccio. Ho bugato? Voglio farti aumentare l'abilità di ricarica. Non lo so. Secondo me è perché l'arma nuova voglio farvi vedere che è figo il fatto che la ricarichi così. E te la dan scarica. Non lo so. Dovrei... Allora intanto mi devo ricordarti non ripararmi un braccio se... Questa qua la metto qui. E ho tutti gli oggetti dei streamer qua. E devo ricordarmi di non ripararmi un braccio se me lo rompono. Importante. Questo è importante. Perché così riesco a fare la quest. Figo la prima volta, forse la seconda sì. Diciamo che se ci pensavo ovviamente era meglio però... Eeeh... Cosa che mi manca qua scusa? Adesso sono al 14. Diciamo all'inizio del 14. Quanto ci manca? 24k. Vabbè dai. Poco alla volta... Poco alla volta si fa. Poco alla volta ci si arriva. Eeeh... Se ne dici se andare a... A intercengio, cercare il gas analyzer. Devo fare la quest della therapist. Eeeh... Oppression Aquarius parte 2. Fa vedere. Se mi sblocca qualcosa. No, non mi sblocca niente questo. E mi da 3k ad XP. Veramente una merda. Sì, proprio una merda. Andiamo... Andiamo a intercengio allora. Sì, devo cercare quei gas analyzer. Perché sennò veramente non si va avanti. Avevo una chiave ma... Credo fosse inutile. Dico osoli. Partiamo dietro i soldi. Se capita di dover uscire la macchina. Anche tanto sti cazzi. C'abbiamo un posto. Cosa è che mi manca? Perché c'è così poca roba? C'abbiamo la cura. Vabbè, c'abbiamo l'IFOC. C'abbiamo l'IFOC. C'abbiamo sicuramente. Quello, boh. Mi sembra che mi manca qualcosa. Ma non so cosa. Vabbè. Andiamo. Guardate il cazzo comunque. Questa qua, veramente. Ce ne può più. C'è l'altro? Cioè, a livello... Come cazzo faceva essere a livello 30? Sto ancora pensando al tipo livello 30. Cioè, come fa? Impossibile. Cioè, umanamente impossibile. Cioè, Pestile che livello è? Quale è che livello sei, Pestile? E sta giocando ininterrottamente. Non so quanto lui, tra l'altro. Perché tu speri che non andate a dormire. Questo è vero. Ah, c'era suo padre che farmava nel frattempo. Tra l'altro credo che sia illegale. Anzi, sono sicuro che sia illegale. Non puoi dare il tuo canto a qualcun altro. Ah, neanche a tuo padre. Ok, Pestile al 32. Cioè, se Pestile al 32 sta giocando ininterrottamente da lì, eh. Cioè. Madonna, come cazzo fa a essere a quel livello se non sei... Cioè, lui lo capisce perché è il suo lavoro, sta lì. Fa su dei soldi. Sono pazzo di fare sempre le stesse cose. Eh, ma ripeto, sul lavoro ho fatto tanti di quei soldi che lo faresti anche tu, eh. Lo farei anch'io e lo faresti anche tu. Sarà ricco e stai fissa per Tarkov. Eh, vabbè, però... Ha trovato una cosa che gli piace fare. Oh, cosa... Cosa vuol che ti dica. Mi ha dato lui. Ma che non so se ce la farei. Con tutti quei soldi probabilmente... Boh. Cioè, troverai un altro gioco che mi piace fare. È impossibile che ti piaccia solo quel gioco. Che cazzo. Pestile di sì, parlo degli altri. Eh, infatti... C'è un... Un altro a livello 30. Cioè, per quello che... Davo più scontato fosse... Fosse qualcuno del genere. È una persona umana. Con una vita... Non da streamer come loro. Cioè, come cazzo fanno? C'è chi è super infotta. Magari si è preso due giorni di ferie. Solo per livellare. Inizio. Ra, Wiper. Poi... Dire a tutti quanti. C'è il cazzo più lungo del vostro. E andare a distruggere tutti con l'elmo di Tagilla. E... Dove siamo? Dove... Ah, qua siamo qua. Quindi intanto c'è ancora il Flash. Non mi ricordo se a destra c'è Obi o Ikea. È comunque un buon motivo. Esatto. Vediamo se qualcuno entra da qua. Adesso, oh, beh, sì, sì. Ma se non ci penso, se non mi concentro e ci penso... Mi dà tutto confondo. Mi dà tutto confondo. Grazie. Allora, credo di averlo fatto, me lo sono sicuro. Se non l'ho fatto adesso mi incura. Infatti spero di averlo fatto. Oddio. Idolo sto tipo. Chiunque sia stato è un idolo. Credo di averlo ammazzato quello lì. Non lo sono sicuro, credo di averlo ammazzato. Tra l'altro il dubbio di questo qua all'inizio. Ciao Elena. Guarda anche se non lo vedo. Se non è sullo sfondo chiaro con la luce dietro non si vede. Il parcheggio non lo ho mai imparato neanche io. Sì, vabbè tranquillo. Non ho bevuto e mangiato. Beh c'è Goshen che ci regalerà emozioni. Grazie. 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 Da cazzo di gente c'è ancora. Cazzo. Ma mio. No. Vieni qua. Va. Oh. Puttana. Merdo uno scav immortale. Il terrore di ogni PMC. Il nostro nemico mortale. Il super scav. Anche come conosciuto. Ma porco dio Nikita. È possibile che dopo cinque anni ci siano ancora gli scavi mortali. che cazzo. Ma che. Basta. Va via. Questa. Senti sei incazzato. Pensa a te. Mi è arrivato il ripiegolo di Twitch. Se sei il primo canale dei cinque che ho visto di più. LOL. Mi farei due domande. Sulle tue scelte di vita. A parte che adesso voglio sapere che sono gli altri quattro. Che se sei uno di quelli a metterlo HS. Ti banno. Ehi. Che cazzo è questo. Non lo vedo. Dai. Adesso. Devo avere più paura degli scav. Devo avere più paura degli scav. Che dei PMC. E' che almeno un PMC qua in giro c'è ancora. Comunque quello la immortale secondo me è il primo scav a cui ho sparato. Ed è il motivo per cui non andava giù. E' lui. E' lui. No, no, no. Questo scudo. Ma sono terrificanti sti scav. Ma che è? E' diventato un gioco horror. E' un gioco horror. E' un gioco horror. Di miglior. No, no, è lui. Uno altro forse. Fottetevi tutti Voi sto gioco di merda Ma si può Che devo scappare dagli scappi Perché sono immortali Che cazzo E' impressionante E' questa cosa Ma no perché Allora mia amica che si rimane Per donare improbabili per lavoro è una ragazza che viene in Giappone Uno è il gatto Il mio gatto L'ultima canale dei ragazzi di Italia in gioco Va bene adesso è perdonato Ah devo arrivare a Goshen per mangiare adesso E' diventato un survival horror tutto in un colpo sto gioco Intanto c'erano anche tutti i PMC da andare a lootare Ma è impossibile perché Pare che secondo me li hanno ammazzati questi scav e i PMC Adesso ci devo arrivare camminando No sono immortali gli scav Secondo me Allora il primo era immortale No no è il primo del matare perché gli ho tirato due o tre headshot Cioè non di rare Ogni tanto capita lo scavo immortale Ci fai poco Il secondo non lo so onestamente ma non volevo provare Il secondo l'ho hittato però boh Poteva essere che non l'avessi semplicemente ammazzato E' palletta gli occhiali cosa fai Cioè Come uccidi un nemico che non può morire Adesso tra l'altro ci beccheremo kill Quindi proprio bagatti che non muoiono Sì 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 esatto non muoiono Ogni tanto capita Ah devo anche mangiare Sì ciao Allora siamo abbastanza Non posso correre Niente andiamo in là e prendiamo Continuerò a tirar giù dei pin kill Oh Si era piantato l'umino Cioè avevo il fucile a metà Non andava Né suggerì Né giù Non poteva né salire Né scendere Ehi Ehi Intanto ci provo a comunicare ma non riesco a nessuno No da assolutamente arrivare a mangiare Non mi va bene qua di scavo la terra Se devo più forte una taglia a casa Ma sempre scavo solo Non ci provo a che poteva il pin kill e se non ti preoccupare che ci siamo quasi siamo quasi come si sono già passati per adesso tutto lo squash c'è e basta ah lì c'è un tà mangia mangia ma la fan come è nuova ho livellato un sacco di abilità soprattutto il metabolismo sono ancora faticato che sto da dire 400 secondi ancora ma quanto dura sto cazzo di fatiga che durasse molto bene una volta che mangi e ti ripigli vabbè tanto da mangiare ne abbiamo ah la coca cola e la redbull le tengo questo qua iniziamo a tenere che ci serviranno poi per la quest oh quali mi servono mi serviranno per la quest del cazzo di woods ok come vorrei orientarmi anche io così bene nella mappa già mi perdo nel real la vedo dura intanto io ti posso assicurare che sono la persona che conosci col senso di orientamento peggiore che esista e mi perdo per il mio paese ok quindi se ce l'ho fatta io vai tranquillo che prima o poi ce la fai anche tu anche perché gioco sto gioco da anni e non conosco ancora bene le mappe e mi perdo costantemente anche io quindi vai tranquillo che c'è speranza per tutti quello che ti voglio dire va bene siamo come nuovi adesso non ci sarà più niente in giro per la mappa però si se vi serve del cibo venite pure qua perché è pieno di ballato c'è di tutto quelle quest del cibo semplicemente perché lo finite c'è veramente veramente di tutto sono di conforto lo so no no ma chiedi a chiunque io non mi so orientare veramente per andare da qua al paese di fianco devo chiedere che sarà da fare quindi vai più che tranquillo cosa facciamo andiamo a idea abbastanza inutile come cosa tu direi beh andiamo a idea passando da dietro ci sta dobbiamo andare a railway ok ci si vede un cazzo proprio un cazzo di niente boh sto accendo le luci quando entro bene ah non ancora cercato o forse non l'ha tirato sulla merda ti puo dirlo ok e vai quale ta che questa è rossa sto povero basta sta roba mi serve D'altro c'è chi conosce ogni singolo negozio qua del centro commerciale io veramente ne conosco tipo due o tre che sono quelli dove ci si va di più e basta Pigellini buoni cazzo Ok basta cibo però adesso gioco ne ho abbastanza Bambi dentro da mia andata? Peraì lui Minuto 24 Iniziamo a guardare anche se hai possibilità di trovare ancora qualcosa su un po' Vediamoci comunque no Ok Dopo tutto questo casino sarai curioso di tornarla all'inizio per vedere quanti morti ci sono Quasi quasi Ora quando ce l'ho lasciato sullo schermo passano i messaggi con i link Questo link invece è bello sul letto guardarlo Questo link è invece bello sul letto guardarlo che era sta roba lui per provare a guardare tutto però probabilmente basterebbe controllare dove sono gli spawn più probabili e guardare solo quelle il resto abbastanza una perte dai tempi temo pare che se non sbaglio l'hanno detto anche vicino agli uffici può essere questo è dentro in realtà devo avvicinarmi da ogni cosa perchè non vedo niente andiamo a vedere qua gli uffici sono già stati guardati si è possibile avere un po' più di buio ok credo che siano già stati guardati così ad occhio non so perchè non so cosa me lo fa pensare ma credo che credo che abbiamo perso un po' di tempo all'inizio è stato un giro interessante è stato un giro molto interessante è stato un po' particolare più che altro devi abituarti a alle cuffie ti consiglio sempre di usare sempre le cuffie ovviamente perchè questo gioco è ingiocabile cuffie ovviamente in game usare sempre le stesse per così ti abitui a quel suono per esempio di solito uso le M32 adesso probabilmente devo cambiare perchè per le live sono fastidiose perchè il suono è molto alto e forte senti anche i passi non sono in massimo non sono in massimo forse per le live è meglio usare altro tipo le swording che sono un po' più compatte però si prendi su delle cuffie che ti piacciono e usare sempre quelle che ti abito quello è una cosa importantissima ma buio pioggia bello anche perchè con le cuffie si sentono molto molto più forti gli spari lontani quindi se non ci sei abituato ti spaventi di continuo per niente una volta che le porti quindi non è proprio il massimo cambiare di continuo non so dove sto andando sperando di trovare le stesse non vedo veramente un cazzo di niente non vedo ne sento un cazzo di niente non vedo ne sento un cazzo di niente pochi rimasti in questa partita ok ho già guardato qua questa roba eh vieni ho già guardato posto niente come non ho detto bisogna andare via infatti è un costante girarmi e guardarmi a torno e sperare che nemico non sia troppo vicino eh sì sì sono strani i suoni in questo gioco ripeto soprattutto con le cuffie perchè non è come gli altri sembrano sempre molto molto più vicine qua quindi si bisogna bisogna solo farci l'abitudine dopo che ci ha fatto l'abitudine però riesce a capire abbastanza di preciso dove sono si vede bene vero? ah ma anche io sto andando un po' intuito un po' a memoria tegliera la prendiamo su grazie vedo tipo la linea dove inizia il cielo e mi oriento con quella qua in teoria dovrebbe esserci il... il cespuglio attaccato al muro che dovrebbe essere tipo questo ok questa l'ho già guardata cioè hanno guardato questa e non quella dietro poi qua si va giù per il muro vedi si fa così speriamo solo non ci sia qualcuno potremmo andare a fare un raid intorno ah no non posso comprare la roba già 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 interessante giocare senza vedere nulla vero? spero che anche gli altri non ci vedano nulla il problema è quando vai in mappe di notte che c'è la gente con i settaggi giusti delle impostazioni dei post fx così ci si riesce comunque a vedere cioè se adesso cambiassi le impostazioni ci si vedrebbe bene però non c'ho cazzi quindi spero solo di non beccare qualcuno che l'abbia fatto manca così il provvedimento degli incursori ci siamo ci siamo non avevo neanche visto che di aver scelto un orario così così merdoso ho convinto a rimanesse rimanesse a giorno per un po' di più ok vabbè che siamo stati dentro un botto oh senti che pace gli va senza sta cazzo di pioggia minchia eh vedi l'ho ammazzato sempre il primo scav quello che correva ok quindi non era quello immortale e poi ho ammazzato un pmc di quegli altri due quello che c'era ratatatatatatam e poi niente c'era quello immortale che niente ha vinto lui ci ha palesemente battuti e come sempre sono pieno di roba che non so dove infilarmi beh abbiamo la tegliera che serve per un botto di roba quindi tanta roba questi si vendono questi per adesso li teniamo questo vendono non mi ricordo questi teniamo cibo allora questo si tiene questi si vendono perché mi sono rotto il cazzo di averli questo si tiene per la quest questo si vende ecco questo ah attenzione possiamo abbiamo le elite players possiamo fare possiamo fare la quest attenzione attenzione questa cosa mi manca questo da beh bolt via rubli teniamoli che eh batta Vediamoci quanto si vende il cibo? Vale appena tenerlo. No 4k, 1k, 5 tushoka, 1.. non ho niente di cazzo. Questo non mi ricordo al massimo bestemmierò, non ho più voglia di tenerlo lì. I cavalli mi servono non so quanti. Non mi ricordo, mi servono un po' ma non mi ricordo quanti. Quest, meccanico, giusto? Ho comprato a caso senza guardarci. In teoria questo, se ci mettiamo il pistol grip, edit preset, se noi ci mettiamo il pistol grip che mi vende non ci voglio ricontrollare prima di farlo, quindi facciamolo e poi lo scopriremo. Allora meccanico cos'è che vuole? 45 ergo, laser, caricatore esteso e meno di 850 recoil. Ah, serviva... no, ce l'ha il cosmo da metterci sotto. Ha troppo recoil. Guarda il mirino non serve in realtà, quindi si può togliere. Il mirino è... vabbè... serve meno recoil, caricatore esteso cos'è che vuole? Mi ricordo un cazzo. Tarkov, Gun, Smith 1. Allora, vuole abbiamo detto 60, durabilità c'è. 47 ergo. Ah no, ma deve essere di 4 spazi. Ok, 4 spazi. Ergo più alto, ok. Quindi, durabilità c'è. 850 di recoil, 4 spazi c'è. 6 o di più. Serve un laser e 850 di recoil. Il laser c'è, giusto? Sì. C'è la torcia. Serve del recoil. Serve del recoil in meno. Quindi se noi facciamo tipo così... Cosa ci devo mettere? E come ci arrivo io a... Eh, non ci arrivo a 850 di recoil però scusate, come faccio? Non ci arrivo a 850 di recoil, è impossibile. Abbiamo un problema tecnico. Ma però aspetta, scusa, ma sto facendo... No, non sono questi. Il muzzle da cambiare... Eh, ma diciamo tutti di mettere quello. No, non... E' peggio. Questo è l'unico decente. L'altro è quello merdoso. Scusa, eh. Questa build è basata, bla bla bla, ok. L'RK6. L'M2 cilinder 12GA, che non è questo. Ma vaffanculo, ok. Era un adattatore quello e poi ci metti questo. E quindi non va bene, cazzo. Mi avevano detto che andava bene questo. Muzzle grip va cambiate. Eh, sì, solo il mazzer in realtà, così ci sta. Nervo c'è, a meno che non sia troppo lungo così il fucile. Eh, prima che non me lo vendono questo. Il GK02, ma è quello che c'è? Mi sto perdendo. Perché mi avevano detto che bastava questo fucile. Ma che cazzo? No, 133 questo qua. Non ho cambiato rispetto allo scorso wide. Boh, può essere. No, ma in realtà... Ah, questo che vendono forse? Eh, può essere. Può essere. Perché... Sì, così... Eh, niente, serve per forza Jäger a livello 2 allora. Perché serve il Muzzle figo. Ma mi hanno detto che bastava quello che c'era qua, su questo fucile, vabbè. Mi hanno scammato. Non ho il Muzzle da usare, pure non mi ricordo quello. Eh... Ah, ok. Eh, vabbè. Sì, non me lo ricordo. Di solito aspetto di avere il Flee e fare tutto con calma quando i trader livellati. Questo è proprio per questo motivo. Vabbè, abbiamo un pompa da usare. No, vabbè, lo tengo lì appena riesco a comprare quella roba. Ma non lo uso. Questi si vendono. Beh, questo qua no. Questo gommirino si tiene. Appena posso comprare l'altro pezzo prenderò. Facciamo così. Mi serve Jäger al 2? Jäger al 2 poi in realtà ce l'abbiamo quasi. Non manca tanto. Quindi a posto così. Eee... Ah, Quest... Stiamo sempre lì. Ci hanno scavato al volo Interchange. Si trova sugli scav? Ci ho guardato, l'ho mai trovato però. Almeno... Sono convinto di averci fatto sempre caso. Poi magari me lo sono dimenticato ogni tanto. Nulla di più probabile. Però in teoria ci stavo guardando. che roba prog venuta male sta canzone. Ghasmik parte 2. Ah, questa mi sblocca anche Farming parte 1 che vuole... Eeeh... No, fanculo è quello dei toolset a factory. Oh, magari col VoIP si riesce a fare sta questo. Magari quella di riparare le cose a factory si riesce a fare col VoIP. O si entra in 5 come rivolto. Ok, tra i 5 sei a posto. Tutta la lobby è tua e... E fai sta roba. Poi si avevano due power cord. Quattro T-shaped plug e due circuit board. Credo di aver tutto quanto. Forse i T-plug non li ho tenuti da parte. Però sto tenendo veramente tutto quello che loot. Ma tutto. Veramente ogni singola cosa. Motivo per cui non ho spazio. Cosa ci regali? Scavettino. Sempre scarico sto fucile. Abbiamo gli slug. Ma sempre. C'è un cazzo da fare. 42 minuti. Ogni fa sono sparati insieme ai PMC. Che troia. Saranno contenti. Ciao Luca. Bentornato. Vabbè diamo un'occhiata qua. Siamo qua. E... Aspetta. Qua. Sbagliato strada. Non so se vado a guardare di là. Andiamo a scaffare dai. Inizialato si trovano... gli scaffari in qua. Di solito si trovano un parolone però. Pim pum. Ehi sono incazzati. Sì. Una cosa bella. Prima di te che il 90% della gente che c'è interchange è qua per... per il gas analyzer. Oh. Ehi ehi ehi. Chi sei il medvede? Hello hello. Ah ti pittucca. Gasano da fuori però. Ti rigassano. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Can... Can I suck your dick? No it's okay. I love your random stranger. Cos'ha appena successo? Cosa cazzo è appena successo ragazzi? Cos'è appena successo? Non ammazzatevi vi prego. Adesso vado giurlando col VoIP. Per piacere non uccidetevi. No no no. Lontano dagli spari. Brutti spari. Brutti spari. Ah 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 ah. Ci beh ne salmero altri 2 comunque. Si beh me ne salmero altri 2 comunque. Che ne sa che ho detto no 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 ok ok va bene Se ne aspettavo che ci andassi veramente No se tu li passi Uno scavo No perché fate rumore perché fate cose state buoni Guardate mi chiede come si crea un post su youtube se si può fare apc si si fai Puoi fare in due modi va nella tab community con un PMC No non scavo Credo che sia uno scavo No mi ha visto Mi ha visto No 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 Oh non posso correre No No Un bastardo maledetto No Non ci voglio credere Non ci voglio credere Avevo Avevo gli slug Ho pensato che col pompa non lo ammazzavo ma avevo gli slug Sono un idiota potrò sparare Vabbè che non l'avevo visto in realtà Ce l'ho visto ma poi si è nascosto E comunque vai O nella tab community E da lì scrivi Dove c'hai presente video in alto E li puoi scrivere Se no in alto quando ho più un video Invece fai crea invece di Video live Hai post Basta che vai qua guarda Se vai nel tuo canale youtube fai così Qua home video playlist community E qua scrivi Se no qua crea Crea post E ti manda qua Panculo Cazzo Dovevo continuare a correre Sbattemelo una minchia Eh che in realtà mi aveva visto Quindi mi avrebbe sparato comunque da dietro E sarei morto comunque Siamo sempre lì Security È pronto per installazione Anche water collection Collector Install Ok Abbiamo altre cose No No non abbiamo altro Al momento non abbiamo altro E quindi Torniamo lì Torniamo lì Pinkiller cure PCP Po' c'ho po' Vabbia che si va Abbiamo un elmo E questo cazzo di cuffie Non ci va niente Dai comprammi questo Con due bleach Però le bleach servono Credo Questo non ci va C'era qualcuno che lo veneva a soldi Però tipo 30k Ah aspetta Mica A me c'è tutta la roba di proper Eh ovviamente non c'è un elmo Che ci vada bene Però possiamo Dai facciamo così Ci mettiamo le contacts Facciamo cambio Quindi questi qui ci vanno Come perdere il primo gas analyzer Rip Ah mando qualche mila e poi mi munisco Non avevo mica letto Infatti mi stavo chiedendo cosa stesse dicendo lei Non avevo visto che Che c'eri Comunque sì dimmi qualcosa Io ho detto l'astic gas analyzer Però mi sa che andrò sola Di interchange perché hanno le palle piene Mi ho appena da beira Mi ho appena da beira Intensare bella Grazie a tutti. Madonna quanta gente sta andando a intercambio, fa veramente in fretta caricare. Adesso i pigram non possono essere, ho messo uno dentro l'altro, ci sono un po' di zanni che non si possono più impilare adesso, non so i pigram, non mi ricordo, anche perchè di solito ne ho uno solo che serve per una quest, gli altri li vendo, non li tengo. Alcuni zanni comunque si hanno tolto la possibilità di impilarli, quindi può essere che quello sia uno di essi. una domanda, si 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 no infatti stavo rispondendo come se fosse una domanda ma come hai notato non so la risposta, però immagini si, se non ci stanno si sappi che hanno fatto sta cosa. già dal wipe scorso, il wipe scorso non potevi, tipo i beta non si possono impilare, si forse quelli un po' più grossi, tipo i beta, dai i 3 zips si, anche i beta forse, non mi ricordo, però si ci ne erano un paio che non si poteva. forse gli attack 2 e boh. questa è la tour da factory con un pigram e non me lo fa impilare. deve essere un bel casino. mi spiace. togliamo la ricerca. e la vaca, siete già dentro? sì, anche perché immagino non sia così agile trovare posto per un pigram, se l'hai estratto adesso, convinto di impilarlo. eh, qualcuno ha sponato dietro, che è entrato da dietro qua. ho buttato due scatolette di tono, sono sovrappeso, sovraccarico. non sono neanche i negozi informatici i posti più trafficati, gli passano oli e idea per i gas analyzer al momento. dai, ero dietro, ero coperto. ero al coperto. ah, l'ho preso anche. mica avevo convinto di averli messi i mirini in testa. si vede che ho preso l'elmo. che due marroni sta cosa. vabbè. cosa che non so posso, cioè se tu sei fuori, vedi uno, spari, perché sei comunque convinto di riuscire a sparare e poi rinasconderti. perchè ho fatto in tempo. nel mio schermo ho fatto in tempo. c'è un cazzo da fare, cioè per il gioco non è così. c'è niente da fare. una roba che veramente non sopporto in sto gioco. eh, desync, cioè veramente la cosa a mani basse che sopporto in questo gioco. non so se mettesse a posto il desync, sarei a posto. giocherei solo a questo, però dopo un po' mi stressa e vado a fare altro. ho un botto di armic, però non ho voglia di usare. ci mettiamo una tirana su una mp5 di merda. ah, devo ricordarmi di non curarmi. cazzo, non sono sicuramente... ah, figo, guarda. c'è la quest e daily. le operational task, che so, le daily. beh, andiamo su sholian. devo fare... ho tre ore ancora per fare questo. beh, adesso vediamolo. ciao, ciao sardus. buona serata. buona serata. vabbè, niente. eh, tanto ho degli altri armor. se ci mettiamo questi. magari iniziamo a usare quelli di proper, volax, no qua. con vpo. beh, pp19, giudicato. andiamo con le armi di merda. questo. eh, tirano su il formaggio. così lo togliandoli. non più caricatore. non più caricatore, no. leggermente leggermente più decenti. pso, agitata e tacca. che cazzo sono? quali sono peggio. e tutti questi colpi, qua non me li ricordo. i pso fanno schifissimo. ancora più dei pst. molto bene. 360, 360, 360, 360, 4. ho un caricatore di drop. facciamo così tanto, guarda. per quello che costano colpi i caricatori. eeeh, cuffie... ah, no, non di... ah, devo usare queste. non c'è nessuno per me che mi rende conto, spero. vediamo di no. nessuno ti vede veramente. c'ha neanche trade, scusa. sì, le contacts, sì, in qualche modo, sì. qualcuno le ha? forse no. vabbè, vaffanculo con questo, va bene. painkiller. eeeh, dimmi qualcosa comunque Luca, quando vuoi guardare il game. a parte che io non resto tanto, verso le 5 lo staccare in realtà. adesso vedo. anche perchè sono qua, mi sfumava la testa oggi, quindi non... non vorrà rimanere troppo. che arma di merda. non ci va il gommino qua? sì, però non me lo vendono. a livello 2, pensate. se ne avevo uno che girava, eccolo qua. tutta un'altra arma adesso. tutta un'altra cosa. se non vai qualcuno in testa, non c'è speranza di ucciderla. assicuro anche il gommino, guarda. fatta. la cosa più utile che ho in tutto il gear. spazio. ok. 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 almeno il 15 voglio farlo però dai, cazzo. almeno voglio staccare con l'asta. così stasera metto su... cioè comunque adesso metto su a craftare la roba del laid out, che ci sono anche... perché secondo me già alcuni pezzi che ci prendono tipo 4 ore. così domani... così la mattina sono a posto. e ho finito di costruirli. oggi che giorno è? mercoledì. quindi stasera pizza. ah domani sera? mi sa che devo paccare un appuntamento. appena sblocchi l'asta ti chiedo tutti i pezzi che mi servono per finire laid out. eh sì, tutti quelli merdosi che... che non si avevano trovati in raid tanto. dai lo so che ci sono dei milioni di persone, fammi entrare. non ci credo che non trovi un game. si poi al massimo torno a giocare stasera... come sempre. lascio vedere. magari stasera due game quando ci siamo tutte e tre li faccio. dopo vedo come sto. per chi vuole venire a aspettare le mirabolanti avventure siamo siamo su discord a streamare di solito la sera. se qualcuno si vuole unire. secondo me quando ti fai scegliere la faccia iniziale pg dovrebbero fartela scegliere. cioè dovrebbero farti provare del gear addosso perché se avessi visto prima che faccia da idiota c'è il mio pg con... con la maschera non avrei scelto sta faccia. sembra che si stia sforzando di cagare o di trattenerla. costantemente. che serve i giochi? ma lascio quello automatico. in passato ogni tanto li cambiavo ma... non ho notato particolari differenze quindi di solito lascio quello automatico. dicono che in quelli europei vado un po' meglio rispetto a quelli italiani. provo appunto a meno che non ci siano dei problemi sicuramente non... ma non cambia. almeno avevo fatto le prove e non mi sembrava cambiasse niente. ma che cazzo? siamo ancora? ho dato un errore il twitch. è morto il mio portatilino. si perché va. vabbè niente. ho dato un errore il portatilino su cui non avevo aperto. mi fa prendere sti accidenti. vorrei metterci una torcia su st'arma. secondo me è... acquisisce un botto di valore. oltre al fatto che la torcia costa più dell'arma. però secondo me merita molto di più girare qua dentro con la torcia. se è un'arma di merda tipo questa. in fondo c'è gente che spara. la freccia mi piace. giocherò con la freccia. a questo poi sono abituato a usare il delta point. quindi ci assomiglia a questo. mai una volta che spawno vicino all'idea? ma questi sono dietro ad obi che non sono appena spawnati e si stanno fightando. così ad occhio. si stanno fanno 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 fanno. Ehi stop shooting me Ehi vabbè però bisogna che muori, ho spettato tipo tre volte Ma ancora lì Ma che mira di merda, pare che non si tiene sta, ma c'è tipo due di record non si tiene Mentre tanto vale usarla come pistola a colpo singolo, cioè, oddio per forza prenderla in testa Ehm, per un neofita, allora Io consiglierei Wootz Il problema è che è una rottura di palle Wootz fa schifo da giocare Quindi giustamente la gente non ha voglia di giocare Però ti fai del loot, uccidi due scav, cose del genere Custom all'inizio è una tragedia Perché trovi tutta la gente che fa le quest, gente che sa già giocare, cose simili Quindi dipende quanta pazienza hai Se pensi di poterlo sopportare e giocare custom va bene anche quella Anche perché tanto devi impararla per forza per le quest Però sì, altrimenti andrei Wootz oppure fuori shawlen, ti fai i giri fuori shawlen e ne ammazzi due scav Per fuori shawlen si intende non ha resort Facendo tutto il giro largo esterno È fatto Oh, questo è? Grazie. Sì, per capire come iniziare, sì, ma una cosa più importante è che secondo me ti fai qualche partito offline, eh, offline, offline puoi giocare la mappa che vuoi, avete rotto il cazzo. Aprevatelo, avete veramente rotto il cazzo. Dove era questo? No, perché cerco i fight con quest'arma? No, 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 no. Diciamo che sì, quelle un po' più semplici, ovviamente sono quelle un po' più noiose, appunto, fuori shoreline ti smaroni veramente, però almeno è un po' più tranquillo. Ok, è vero che becchi qualcuno che fa le quest, però, meno che su altre mappe. Magari nel frattempo ti risulti due armi, degli scav, un po' di loot, cosa simile. Pim pom pam, senti se ci danno dentro, se ci danno dentro questi. Quake make. Ma lol Infatti l'obbam ha ittato una volta il braccio, ma è partito un sanguinamento pesante, ecco perché. Questo figlio di... Lampadina teniamo molto volentieri, grazie. Che servono anche quelle... C'era comunque sempre il nostro amico che ci aveva sparato, eh. Poteva essere uno scav, però... Rimani infatti che qualcuno ci ha sparato. Mh... Comunque non nerfate il recoil in generale. Questo wipe. Sia delle armi che delle abilità... Che proprio il PG come controllo il recoil. E si sente parecchio almeno. Sembra veramente... Un casino tenere un'arma rispetto al passato. Propano, di boh, ormai ci costruisco una casa. Un altro motore, lì sopra. Sono su Discord. Adesso arrivo, finisco questo giretto. Devo andare a prendere qualcosa da mangiare perché sto morendo. Il problema è il server, ma... Infatti non capisco. Continuo a... Continuo a crasharmi... Con la live. Sull'altro PC. Come mai? Non è un problema mio quindi. Datemi un segno di vita, ditemi qualcosa. Il momento è crashato di là per me. E non riparte. Ditemi... Ditemi se sta andando oppure no. 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 Ok, YouTube no. Eh, mi sa che è Twitch allora. Spero che sia Twitch non un problema mio. Dove c'è un altro player qua dentro. Vabbè. Passiamo in giro da dietro, poi in casa usciamo, che c'è anche Luca. Ovviamente c'è lootato qua. Lo devo uscire. Non ricordo. Ah, mi ricordo. Allora usciamo dai. Saranno già passati a quanto pare. YouTube da dio. Eh, boh. Adesso esco e poi controllo. Ho scritto problemi al server. Quindi magari non è effettivamente colpa mia. Cosa di cui sarei contento. Sì, ma nel senso è Twitch. Tutto Twitch. O sul mio canale. Scronk. No, non ti chinare. Non vedo l'ora di avere le abilità livellate per capire se sarà una merda così anche dopo oppure no. Vabbè. Tutto. Ottimo. 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 Sto ancora riscando per il gas analyzer di prima. Vappankulo. No però dai. Non ho un'arma per fare sta roba, per piacere. Eh è sceso. Sì vado in qua mi vede sì. è ancora là dalla discesa è lui però mi vede se fa così cosa cazzo è andato eh ma che cazzo faccio con stanno eh dai non è reshut quello ehi fuck you pensa a te ma lo 22 un'arm p7 non mi ha messo bene allora facciamo così eh i motori hanno roto i cazzo un altro mp5 perché ne abbiamo pochi eeeh vabbè ancora uno crozzano bastardo no i mosi no inerzia te l'ha buttato in culo beh abbiamo anche un mp7 adesso abbiamo un mp7 un boss in un mp5 ho tirato fuori tre armi in una mossa sola dark knight kv ucciso nel piede mi sta bene sto stronzo mi sta sol bene ammetto che è abbastanza noioso non lo ricordavo cosa dark ho scritto su discord ha scritto che lo sta scaricando prima quindi davo per scontato che lo avesse appena comprato replica su discord con un ragazzo che ha scritto adesso su discord e poi ha detto ammetto che è abbastanza noioso non lo ricordavo mi diceva già giocato ciao salute grazie sto vendendo due roba a casa perché sennò non ho spazio cosa dicevi che stai facendo interchange sto cercando quel cazzo di gas anonizer perché non ne posso veramente più ho tutto bloccato per quelli no 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 ok ho capito ho lo scav libero se vuoi quando è finito sì sì sto facendo un attimo la cernica di cosa posso vendere anche perché è molto divertente andare a picchiarsi su lighthouse però anche a me si è un pezzo di andare avanti eh sì infatti è un peccato però veramente basta p-skipper gli venderò un po' di armi anche se funzionano anche se funzionano per cazzo no posto a k gigante dentifricio verbo vorrei dire cavolato ma fosse gas anonizer non spawna credo sia un eroe del gioco no no hanno messo a posto li avevano tolti da alcune mappe oggi li hanno rimessi hanno detto e hanno aumentato anche di parecchio lo spawn su su interchange in teoria in teoria in pratica in pratica lo pigliamo in culo come sempre ehi ma che cazzo è balbex cable cutter oh lo spellacavi adesso lo serve eh sì ho visto anche io prima che è un che è un cazzillo nuovo ma tra l'altro l'ampisat è chiuso questo credo che non sapeva come aprirlo i canelli vale lo vinti due tipo cioè questo è un bear sì grande cazzo dock tag dei bear è difficilissimo trovarlo sono sempre senza ah no non va qua ma cazzo sono messe qualche un po' Lampadina, questa si vende sia agli USAC, questa ha un caricatore da pistola, questa cosa c'era qua, sanguinamenti, poi prenderò, vabbè niente, metto il posto dopo, ci sono, non c'è nessuno, c'è un trescavo, vado a prenderlo a mangiare intanto Sì, un secondo in bagno, arrivo Grazie 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 aspetta che provo un attimo si infatti mi è morto tutto tutto aspetta che vado per curiosità cioè non va a twitch se vado su twitch.tv non va magari è andato in culo anzi è probabile mi da proprio tipo something went wrong e e non va a twitch.tv avranno di server down si roba da niente insomma si esatto dopo che sia fine no però poi se vai su un canale oh ma per cazzo di niente che bomba non c'è un cazzo qua ci fiondiamo giù di sotto si stavo ero curioso così un attimo di vedere che cazzo succedeva comunque si va bene no no vabbè fai tranquillo non ti metto a fretta no no meron vabbè niente è morto tutto morto twitch flip ho una chiave inutile e delle bende molto bene e andiamo andiamo si dove siamo ah ok mi sa che siamo sopra sopra dove c'è la roba da mangiare e andiamo a vedere se sono i cadaveri in qua là c'è tech light in fondo si si andiamo a vedere hey no non mi risponda andai avanti c'è uno si hello hey suca te bl***i upyr bl***i gni da bl***i non c'è la scura c'è la ozze e nepploca oh tuppyr hey hey hi i'm only searching for the god um uh gas and laser do you have some? no 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 yeah bye 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 have a nice evening eh eh grazie quindi devo dire che è un'altra cosa eh niente andiamo giù eh eh qui c'è un cadavere però è una scout eh comunque è divertente adesso che tutti chiacchierano e si che tutti chiedono di gas all'alizer esatto che tutti chiacchierano eh eh vabbè no però rispetto a tempi indietro quando appunto entravi da scav e ti legnavi come un bastardo come uno ah sì sì tra l'altro prima dello scav karma ti sparavi diretto proprio anche agli altri scav eh 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 che ne sbattevi il cazzo e sparavi chiunque anche da davanti c'è uno che starà cercando gas all'alizer esatto se è uno scav sì ma perché siamo entrati tardissimo ci sarà un cazzo di niente eh a venti minuti della fine ah sì prima è il 2.40 hey hi ciao 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 tutti eh buona�某 no già lontato anche qua niente eh vabbè non lo so Forse adesso per assurdo con tutti che sono qua È meglio andare a cercare l'altra parte Penso di sì Poi tra l'altro Se ne trovo uno Se ne trovo là Perché a me non serve un'ora Però penso che sia uno o due missioni Dopo rispetto a quello che ho Ma credo che sia Se non la prima Dopo Dopo di Salewa Sarà la seconda Adesso non mi ricordo Eh sì Perché te mancano anche di Salewa? Eh me ne manca ancora uno Figurati Perché per fare Cioè non ho neanche la Medstation Perché mi manca la siringa E la pila di Med Ah beh la siringa ce l'ho Eh se ti avanza guarda Non ho messo Direi di averne una Nel dubbio ti faccio aspettare Flee così la compro Lì che la mia è found in ride Credo che serva per una quest Tanto sono a metà del 14 direi Sì sì Eh vabbè niente Facciamo guardiamo comunque qua Eh guarda Andavo verso I magazzini là in fondo Mmh Andiamo a vedere Tanto comunque manca ancora C'è un quarto d'ora Vabbè Pi piri pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Adesso è tornato su Adesso è tornato Twitch Ah boh ok Dai pc qua ci sono Credo Sì no è tornato Sembra essere tornato Ho avuto un attimo un mancamento Niente Qua non c'era un belino Ah boh C'era tipo un cavo Da ipc ho trovato Sì beh vado avanti Vado avanti qua dietro Anche se non sono molto speranzoso Ui condensatori Va bene anche io prendo su tutto I condensatori se ne servono 5 Per una quest Bene 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 Credo 5 però se un po' ne servono Il plico di carta serve Non mi ricordo No io li sto vendendo Serve per dei trade mi pare Se fai la carta igienica se proprio non Non la trovi Sì Io sto vendendo Che cazzo è sta a fare Ah il clean Quelli servono per una quest Fra mille anni Sempre i skipper che vuole due clean Trovate in raid La paper la butto Perché non è che lo zaino purtroppo No no ma la paper non credo salva niente Prendo giusto il clean Clean wiper Ah questo è il magazzinetto di oli Insomma ho fatto il giro dell'orecchio Si apre così la porta Mamma mia Hai trovato qualcosa avanti? Ok Bene No ormai sono in fondo Ormai sono a power station Ah merda Sono proprio in fondo di là Ah si si ho tirato dritto Tanto Qui c'è un succo di frutta C'è dell'acqua Non aspetto succeda niente di emozionante E anche se muoio Diciamo che non ho molto da perdere Tu cosa sei? Un caricatore che non ho mai visto Sì adesso arrivo in fondo Da un'occhiata dentro Non ho anche idea Ma proprio così Per perdere tempo Sì si Tarkola 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 2k di rubri di butto E prendo la Tarkola Meno questo Passa di qua Insomma è stato in questo Angolo di magazzino Non pensate c'è una cassetta qua Insomma è stato qua Cassetta che Evidentemente la gente Non conosce perché era ancora piena Pensate Siamo tornati su Ci ha visto che Che è tornato vivo Ha avuto un attimo mancamento Per qualche minuto Ok No è un bot questo Ah ma con l'ultimo pezzo Vabbè tutto sommato Cavi condensatori Niente di utile sul momento però Sono da poco su Tarkov Ho notato che il tuo omino in alto a sinistra È di un verde molto più acceso E forte del mio Sì c'è l'opzione per metterlo Che adesso Non mi ricordo qual è ma ci guardiamo Appena si spianta Dai gioco Ho fixato il cazzo Ho fixato Game Qua Health condition all we shown Che così c'è l'uomino sempre lì E se metti polychrome È colorato così C'è l'uomino verde quando è sano E poi c'è una tannica di benzina E poco alla volta quando si fa male Diventa giallo, arancione, rosso, eccetera La tannica di benzina io la prenderei volentieri Ti dirò Perché fa molto comodo Da poco altro costa dei soldi Quindi si prende su Da questa carica è bugata e consiglio di non fare Eh ho visto Ho visto Però ci sono ancora abbastanza lontano Spero che fixino ora che ci arrivo Io mi sto dirigendo all'uscita Sì sì sto Aspetto lì A parte che Stai andando dai treni o quell'altra? No quell'altra Quella vicino a dove Ah ok E allora io vado dai treni Vedi tra i treni? Sì ormai sono qua in fondo Vado dai treni Sono Più o meno alla centrale Quindi Sì 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 L'olce Un muce crepato qua all'uscita Vado sto zaino Io vado C'ho un arco un po' Sper mettere una roba di 3x1 Perché non ci sta Vado Eh volevo Lootare qua Ma mi sa che non faccio un tempo Vado La vita è una merda Poverino Ce l'ho trovato uno che è crepato all'uscita Adesso gli inculo anche roba che mi serve Sono fiammiferi La fare I croutons Per coso Ma di bo Cappello da cowboy E tanto è morto Mica di servono Sì sì infatti Sai quanta bestemmia Così va a disinstallare Forza Andiamo ancora a beccare In realtà Di camper Sto giro Ma anche il wipe scorso Praticamente Non ne ho trovati Ok la gente aspetta Di avere due armi decenti Per di camperare Perché camperare con Tipo Un 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 Ma basta pioggia Sono tre giorni Che piove Questo chi è Ma quello è un PMC No No Siccome va La giacca da scav Ehi Io Ciao 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 Ma ma se Se me ammazza mi risparmia La fatica di mettere Sta roba nella stascia Adesso potrò avere Anch'io Lanterna in alto e sinistra Esatto No Per me è molto più comodo Anche perché In mezzo al fight Magari capisci Se sei tutto rosso Sai che sei veramente Nella merda E un colpo di pistola Ti ammazzo Oppure se sei in giallognolo dici vabbè posso continuare posso tipo pushare prima di curarmi cose simili secondo me ci sta abbastanza comodo magari puoi mettere che non si veda sempre quello si io però lo lascio perché così vedo quanto durano quei buff se mi finisce il painkiller cose simili io lo lascio per quello puoi anche mettere la barra in alto sempre visibile se vuoi sempre lì dalle opzioni c'è anche quella lì quello è cavolo perché se assedi le granate a due pulsate tipo anche sul 9 a caso e hai la barra in alto visibile ti fa vedere se hai ancora delle granate così sai quando le finisci anche se in realtà adesso non so come funziona quel nuovo sistema no però se non cambia niente quella prima poi prima che pallest è questo si riceverà anche la durata di painkiller cose simili buono non sapevo però per la durata devi per forza andare devi premere tab e andare nella tua vita e metterci il mouse sopra non c'è altro modo però se hai l'omino sempre visibile in alto a sinistra lampeggiano quando stanno per finire e quindi lo uso perché è comodo per quello poi vedi se sono finiti dei debuff che avevi cose simili non ci vedo molti lati negativi al non avere l'omino lì in alto a sinistra quindi ce lo lascio abbiamo un serio problema di spazio molto molto serio no ma proprio mi ha dato lol mi ha dato della merda oggi a me ha dato 6 90 n8 5 6 a 1 beh meglio che le sottilette che ha dato a me sto stronzo va bene un rig e uno almeno no allora sto fucile fa schifo è rotto se lo compra schiera anche se è rotto c'è la pskipper si bravo compra qua questo questo anche questa qui copia quanto fanno sti colpi della msp7 immagino molto poco immagino molto poco se li fanno schifo ok devi sparare le gambe e immagino anche siano quelli gli unici che posso comprare ciao erdil sono gli unici che posso comprare quindi fanno schifo la mp7 mi fa schifo ma lo userò giusto per fare un dispetto a quello che ho ammazzato prima ah ok posso usare solo i caricatori da 20 molto bene molto bene ah dentro c'è una caricatura accurata però grande ma che signore ok ottimo zack va bene cosa facciamo per la torna di interchange per cercare quella merda guarda un'altra parte tanto mi pare di capire che un posto vaga l'altro è pieno imballato interchange cioè si infatti no è uguale ci sono di nuovo dappertutto le cazzo che chiamano tranne tranne shoreline credo ho letto che su shoreline non ci sono non so poi sarà confermato o no guarda dove vuoi andare io ho detto ciao subzero allora prendo qua prendo qua eh che di altre cose devo ammazzare delle scale su custom io se devi fare qualcosa tu per me abbassare la tua guarda eh se vuoi andare lì andiamo lì ok allora poi ci dovrà tornare anche Piero mi prendo la chiave ci dobbiamo tornare anche per Piero poi vediamo se riusciamo se non sarebbe male mi porto un'arma di merda perché armi di merda la bank house key non ce l'aveva vero portable bank house key no 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 ho giusto la chiave del di tarcone e basta che palle anche di soltanto hanno sempre un trade ste chiavi del cazzo delle quest questa non ce l'ho posso cercare un attimo per sicurezza ma non credo no la troveremo prima o poi la troveremo dorm come allora weapon no weapon safe io non ce l'ho un cazzo dorm 108 dorm 103 no no purtroppo vabbè vengo sul cazzo allora chad squidward diego el tetas grazie luca piar caritas no si sente più la conga c'è un volume troppo alto devo alzarlo grazie mille luca prima super chat di questa carriera questa nuova carriera visto che avevano già streamato su youtube è tornato ufficialmente quindi twitch pagamento sul portatile non va ancora però immagino che sono per una dei miei portatile che fa un po' schifo però si mi sembra mi sembra tornato e allora per i gas analyzer qua dove cazzo si può andare tanto se lo spawnano a caso quindi quanta pazienza per sto gioco ora funziona ok bene ciao brain con una 1080 ti gira come ti gira bene sto gioco se non streamo abbastanza bene poi in realtà va molto a culo perché dipende da mille fattori ci sono stati dei wipe in cui non riuscivo a giocare che continuavo a frizzare andare a scatti facevo 50 fps degli altri ne facevo 140 si capisce un cazzo in sto gioco ma un po' come come c'è voglia quel giorno però come come scheda va bene lo fa girare in teoria a meno di problemi tecnici del gioco va bene ciao pensiero libero grazie mille ancora Luca non Luca tu è si si lo so magari credevi stessi impazzendo oh siamo dalla parte giusta sembra si dove cazzo siamo si la cpu è molto importante per questo gioco si cpu e allora se non ce l'hai su una ssd non provarne anche a giocarci perché è impossibile la cpu è molto importante è anche la ram quindi hanno sparato non è stato no io non ho sentito niente è un rumore strano aspetta che si sono un attimo il volume una volta salto ma troppo ci sono mille guide comunque online che per dire a me una cosa ha risolto c'è uno dall'altra parte del treno sopra il treno si scafo ok mi ha fatto un colpo si l'ho visto anch'io mi sono pagato come avevo visto uno sotto ok gli hanno sparato direi non facciamo il giro dall'altro lato no non ce voglio ormai son qua chi bridge esatto qualcuno gli spara è dall'altro ingresso lo scafo non si è accorto di niente si qualcuno era dall'altro ingresso di sto posto che ha sparato non so se lo scafo cosa ok adesso ce la com'è però insomma è pissata una chiave che ha spara storto eh adesso però sa anche siamo qua e ah no aspetta che c'è i caricatori da poco stanno correndo li ha sentiti si non ho capito dove mi vedrei la cazzola qua sinceramente si questo è un brutto posto torniamo da dove siamo arrivati ma vuoi andare via o o facciamo un giro largo o torniamo passiamo da dietro da dietro il capannone intendo si 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 se vuoi andare vai io sto qua e vogliamo cosa succede o no faccio io il giro se vuoi io me ne starei qua si 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 vabbè vabbè vedi vedi un attimo vedi un attimo vedi un attimo ma è pissata è stupenda si non è che mi piaccia molto in game però si fregata da un tipo prima ammazzato con un pp19 scarlancato ma magari voglio solo farlo a questo hey si can you hear me no 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 non sono aspetta magari non sono neanche entrati a questi mi sembra strano o questo infatti che ci sono driver più stabili e meno stabili statunate ma hanno un rollback ma sono giocati giocati diversi rischi di fare pasticci eh sono un'infinità di fattori messi insieme che è sostanzialmente va a culo in questo gioco tu dove sei? sei tornato qua? si si sto tornando qua adesso ah ok eccomi eh vedo un cazzo hanno aperto su hey can you hear me hello no no ah su puoi entrare e entro se no andiamo andiamo si si aspetta 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 Ciao, ho bisogno prendere il documento Eh vabbè senti, provo ad andare su Si ma fuori io ho tanto mura Twitch dovrebbe essere tornato Ehi Ok, aspetta, ho sbagliato post Già è andato via, madonna E come ho fatto a non sentirlo? No, guarda, non ho paio d'idea Presa Ma pensa a te Micchia eh, ho detto già tutto questo tipo Ah ma probabilmente l'abbiamo sentito correre che andava via allora Non può essere Ah, pensa a te Scusi ma anche qua ha aperto tutto Forse qua no Ok Ehm, ci sono uscito a fare i tre PMC su Factory Meglio fare negli WAP, c'è la prossima gente che va Sì sì, in questo momento su Factory c'è solo gente nuda che fa le quest Ehm, Twitch c'era saltato ma dovrebbe essere tornato Ho letto una generata di impostare su Discord il tasto push to mute e da segnale del push to torque Ah ok Ci sta Cosa ti serve? Ehm, quando Ehm, se metti lo stesso pulsante per mutarti su Discord quando parli in gioco ti muti su Discord Ah ok Ehm, così Ti trovi in game Perché è direzionale Cioè quindi se uno parla ti trovi Sì sì ho capito Che Puoi semplicemente usare le linee vocali in realtà Però si non capisci chi parla quindi Ci sta Si può fare ecco Anche perché a me Eh boh di fare Anche a me un pulsante per mutarmi su Discord servirebbe Quindi magari lo faccio Sì sì, prima Twitch c'era proprio saltato per aria Cioè non apriva neanche più la home page Io sono già fuori dal muro Ah sono venuto a luttare la campanina blu Non ci sta Eh rischi a dare cerco di farli tutti per trovare quella merda lì Attraverso la strada ti aspetto dall'altro lato Ah ah Sono qua quasi dal treno Ok arrivi Ok arrivi E allora dove usciamo noi? No non ho capito la chiave beh O la barca O il gas station Facciamo tutto il giro Passiamo da destra quando c'è il gas station Si Facciamo tutto il giro da destra Facciamo tutto il giro da sinistra Per Woof non ce l'abbiamo No da sta parte no Vado a vedere le due stash qua Allora ci siamo Quelle laggiù Si Puoi settare la pedaliera MIDI Si Volendo si Volendo si può Bel casino però Per questo lato devo sempre tenerla accesa Eh Se trovi qualcosa che non ti serve Fammi sapere Tipo Fiammiferi Sapone E ti friggio Tanto l'altra ci devo mettere anch'io Si Bella a natale compro escape from tarp Fai bene Forse Sodio e magneto C'è un cazzo qua Perfetto Ma c'è un rig qua invece Che non serve un cazzo però Però è quello bello gigante Molto bene No di qua non c'era niente C'era il sodium Che serve per Nel layout per fare qualcosa Si La cucina di non mi ricordo qua cosa Si Tu ci sei salito Si Anche meno Ma dov'è? Boo Qua dietro non ho neanche visto Qua dietro non ho neanche visto Tanto c'è una super mista di scav cazzo Ciao scand Io sono dietro il calo armato Eccolo Controllo la mia cassa preferita Mi fa piacere che il primo colpo non sia nato Nell'etere Allora Eccolo Allora Eccolo 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 Ok Eccolo 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 Sotto la distanza Che puoi mettere In pratica Eccolo Guarda se tu vai Ah no Non si può Ma li hai buttati per terra i fiammiferi? No Dovrebbe essere nella sacca No Ah no Gli ho buttati io allora Sì Praticamente se metti tipo Ombre Basse Si C'è qualcuno C'è qualcuno C'è qualcuno C'è qualcuno Che sta facendo? Io sto facendo il giro largo No dicevo lui Ehm Adesso C'è tu che fai far Sì 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 Sei andato di là tu, ok E che cazzo scusa? Forse era uno scav uno di quelli di fianco Può essere, se resti sosponati Si è programmato veramente in modo strano sto gioco Veramente una merda E' qua che corre? Si è tornato indietro secondo me, ma è lo scav di quelli lì E' lo scav ignorante, ok Quindi cosa succede? Che differenza c'è a mettere le alte e basse le ombre? Eh credo niente, dopo lo faccio nel menu che controllo bene se sto dicendo cazzato o no Perché adesso non puoi cambiare in game, quindi non riesco a controllare Andiamo nell'officina qua, oppure... Eh si va bene Ora so che c'è una cassetta di soldi Eccolo Andiamo Ok Ok Oh... Niente Andiamo... Andiamo verso la restation, vediamo se è aperto Sì Ah c'è roba qua guarda Dove? Madonna due due set E dei metri Eh madonna No no Incazzate quello Usciamo di qua? Sì Sì E anche meno Allora tiriamo Da mezzo Sì Ah basta Belli prepotenti così Sì sì Allora se c'è qualcuno qua dentro Entro qua cattivo C'è uno scafo E' capiato Fatto questo Non lo vedevo Mica è tutto buio Parco due mi ha fatto Aspetta che mi ha fatto il braccio Guarda Per me possiamo andare proprio oltre Sì sì Mi furo un attimo Ok Chi è questo? No ha fatto una scafo Ok Sei già uscito tu? Sì 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 Mi volevo arrivare qua dalla rusta Ma Mi sono beccato uno scafo in mezzo Arrivo Oh Chi ha? Eh dietro il camion Madonna che in culo Che ha sto fucile Ok fatto Ok ottimo Attraverso ferrovia Non è aperto Benissimo Ovviamente Qui ci ho trovato una doppietta E' l'altro giorno Come essa Potentissimo Ho guardato Sì Sacca medica Close Niente Ciao Good forstine live Da sempre su youtube Serio efficiente Mi fai spaccare Bella Grazie caro E' meno safe Passare dall'ospedale Sì e no Drillo un attimo Sì volendo è un po' meno safe Cioè l'ospedale è di solito uno dei posti un po' più popolati Dall'officina Cioè siamo passati lì dall'officina Non so perché la mangia lì non è anche camper Dove sei tu? Ok t'ho visto Scav Qui davanti a noi Dio porco Ma sei morto? Eh sì Porco dio che Ok quindi Cambio il piano Dillo che l'hai fatto perché tanto poi ci dobbiamo tornare per Piero Cosa? Dillo che l'hai fatto perché tanto poi ci dobbiamo tornare per Piero Sì guarda Tu hai backshot headshot Eeeh Bene ti ne avevo i toolset nello zaino per la missione di Cioè li ho trovati prima Sì Ah ne ho mille in realtà Prendo giusto uno Eeeh Zaino qua tutto quanto Ti butto via Si metti lì da qualche parte Tanto l'ho Cioè è roba di merda Però Almeno torna C'ho il pacchetto Kidding Allora Riscaldamento Eh vabbè Magari anche che si vede un bene no? Eh Anche qua la gente ci guarda Dai Ecco due Ecco due Anche qua la gente ci guarda Anche qua la gente ci guarda Ok 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 Vabbè Vado per essere uscito Ma uscire da sto lato è veramente una merda Ci si mette tre ore Ok 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 non mi sto posto rimargo non si vede niente vogliamo se ci regalo qualche emozione ah niente al prossimo giro vengo con le mp5 perché si bestemmio meno ce ne vuoi un paio di mp5 guarda ce n'ho giusto un po' ci riesce ancora la finestra? no io ne ho giusto due ne ho mi sono rimasti due ci riesce ancora si bello non sapevi sta cosa come questo scappi da tarkov ti va bene ma non scappi dalle bestemmio no non scappi neanche da tarkov secondo me ma la vera domanda è chi è che vuole scappare dalle bestemmie poi sono le bestemmie che scappano da noi noi siamo più veloci le raggiungiamo oh ma potete aprirmi una fottuta uscita una volta tanto dai una fra le due alternative dovrebbe sempre essere aperta che palle c'è una fra all gas e sto cazzo di buco che dovrebbero sempre lasciare aperta adesso voglio provare una cosa perché secondo me hanno messo che si salta sempre probabilmente è impossibile farlo con la forza bassa si salta sempre lungo adesso non c'è più bisogno di fare lo sprint giusto con la forza alta quindi adesso tutti quanti riescono a saltare da lì non è pieno di tacca di merda non è pieno di tacca di merda se vogliamo andare all'interchange va bene se riesco a portare come livelli forza lanciando le granate poco una volta si lanciavano un botto di granate adesso non credo ne valga più la pena se no andando in giro in sovraccarico quando sei pesante vai in giro secondo me quando corri o li ha livelli più in fretta o solo addirittura quando corri le livelli però non non ne sono certo però sicuramente andando in giro con l'iconcino la in alto a sinistra gialla che ti dice che sei troppo pesante è una cosa che viene giocando sì 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 non c'è chi chi la livella forzatamente mettiamo diciamolo così perché ogni tanto vedi magari qualcuno che entra con lo zaino pieno di colpi di fucile a pompa che sono delle cose che costa meno e già col miglior rapporto prezzo peso e quindi si riempiono lo zaino di quelli così entrano in ride che sono già pesanti e così anche i primi minuti inizia a livellare ecco però non ne sbatto abbastanza la ciolla vabbè devo andare via le 5 facciamo anche vado via le 6 basta che poi non mi dai la colpa nooo che dovrei andare oddio se estraggo sono una merda devo andare a... ah no ho mangiato la pizza stasera come te dovrei andare a prendere la cena ma mangiare la pizza ma in realtà non c'è niente da fare allora ci sono quando vuoi allora facciamo le 22 o vuoi andare alle 10 di mattina? sto andando alle 10 possiamo anche andare alle 22 ma andiamo alle 22 dai che magari c'è meno gente non ci vedremo un cazzo ma ci sta bene metto i filtri così si vede qualcosa mentre siamo dentro ah li avevo già guarda ma quindi la cosa delle ombre? ah merda è dove guardarci in gain nel menu no ma solo diciamo a livello teorico poi è massimo cioè io me lo faccio se è una cosa che dici non serve un cazzo ma magari migliora un filino lo metto e non le lascio basse che... secondo me se tu metti tipo le ombre basse o almeno che non siano le texture oddio aspetta adesso ci guardiamo quando sono in game perché sennò ho pure di cazzate c'è comunque un'opzione che se metti bassa ti fa scegliere sotto c'è una barretta che va da tipo valore x a valore y se tu metti la qualità alta non è che cambia la qualità cambia semplicemente che quella barretta può andare oltre puoi scegliere oltre però se tu ce l'hai al minimo che metti la qualità al minimo al massimo non cambia niente grazie ho capito non mi ricordo se hai le ombre o qualcos'altro adesso ci guardo ciao Pulse si ma dico a livello tecnico alla fine cosa c'è secondo me se metti tutto al massimo vedi appesantire alla fine eh sì o no perché le texture alla fine se le metti al massimo va meglio il gioco provo a spararmi anche le le shadow quality alte e vediamo cosa succede overall visibility non vorrei che sia la visibility a sto punto l'overall visibility è quanto tu vedi lontano si si devo provare a cambiare texture e shadow dobbiamo farlo fuori dal gioco di quello lì dell'overall visibility sono sicuro perché tipo ci sono le mappe che non sono più cioè non sono si si no quello si forse meno quindi era inutile averlo a 800.000 no no quello si lo so anch'io allora abbiamo un mosin il load che cos'è? il load è praticamente quanto lontano ti fa vedere gli oggetti sostanzialmente quanto lontano renderizza le cose in pratica cazzo è sta roba allora io non ho un cazzo ho un cappello molto figo e un mosin io il mosin però non ha il mirino davanti quindi è inutile ma no il mio ce l'ho ma sei tu questo? se sono io però c'hai il mosin nero figo si si ce l'ho nero però è senza mirino quindi vabbè non lo so andiamo da qualche parte che ti devo dire andiamo dove ci porta il cuore esatto anche inteso come personaggi no no solo no no non personaggi ovviamente eh andiamo ma andiamo a idea si luogo qua vuoi guardare le cassettine? si intanto già che sono qua eh si non che ci sia tanta roba ma ma vabbè però sai magari fai come piero sculi una graphic card questi croutons mi sa che non sono quelli che mi servono uh le malboro le prime sigarette che trovo poi andiamo da idea eh si passiamolo qua hai dimenticato i posta è fix in che senso? poi mi son perso che ho visto no hai lasciato con le base non ci sta vedendo un cazzo voi ho provato a schiarire un po' che magari si vede di più tacca madosca questo cazzo di labirinti mi sono perso basta che vai sempre dritto più o meno ci arrivi non è che non è uscito fuori ah ok ecco qua io vado dentro se vuoi guardare il magazzino qua o venire dentro vedete vado dentro guardate se c'è qualcosa non lo vedo quindi ottimo c'è anche albi faccio prima guardare la live se guardo la live capisco meglio dove sta andando non posso portarmi su sto coso verde e portamelo in giro scusa fantastico qui ci sono tipo gli uffici ah si questo è il magazzino mini dell'amiche qua piccino si qua c'è il magazzino con gli uffici dopo si usb multi plug questo mi serve cosa togliamo togliamo questo ah già ok già aperto si si c'è anche un cadavere un solito tizio un po' è lo zaino ehm pfff una merda tipo vabbè il mio è più piccolo tipo 4x2 il mio si si ho capito nel mio 3x2 eh vabbè qua hanno dai che palle fra dobbiamo trovare una soluzione per la gente che entra nuda perchè poi è sempre colpa loro spariscono le cose un altro guarda qua eh si un altro qua che cazzo è successo qua ma no saranno magari non erano nudi cioè si sono stralutati e via un altro qua che cazzo questo c'è un armory drink tutti nudi? no sono eh verrò in qua anch'io uh un gilio è un po' più grande questo è interessante ma c'è lo c'è su qua il ragazzo che provava i vari setting in definitiva aveva concluso che riducendo il livello di dettaglio si aumentava la facilità di spotting dei nemici poi ovviamente varia monitor monitor però una logica ci sarebbe ehm ok beh il livello di dettaglio si praticamente ho tutto al minimo anch'io eh nei giochi online a meno di casi particolari si usa sempre tutto al minimo tranne le texture dei pg se ci sono che si mettono alte quelle perché si riconoscono meglio di solito la base è quella cos'è questo? ah il tarzan eeeh però si anch'io mi pare c'è qualcosa qua sotto ehm ovviamente ho trovato a meno ovviamente ho trovato a meno ovviamente ho trovato a meno come dicevo avevi una manastra diretti dove do far da scalotta? ah no 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 non ho ancora visto niente ok cambia il p.s e quindi qua dovrebbero spawnare i gas analyzer? ah si in teoria in pratica c'è la coda fuori per venire a prenderli quindi mi sa che spawnano solo delle gran madonne 20 minuti 21 e lì e niente vogliamo fare un giro anche al lobby o boh si adesso un po' dietro che sarà già lootato anche quello ma vabbè ti rendo lì tu col mazzo massimo c'è kill hanno sciaccolato tutto eh si non siamo neanche entrati prestissimo quindi sono già passato i 200 poi adesso il third change è pieno di imballata perchè è uno dei posti con con il loot migliore e soprattutto gli oggetti che servono quindi guarda un attimo sta giacca tanto più passiamo di niente è già più aperta la mappa nuova a me piace un botto eh figa tanto è facile da imparare perchè è tutta dritta perchè è un lato positivo non indifferente e poi è bello perchè ci sono tanti posti diversi ci sono delle case c'è l'albergo gigante c'è i i qui e i u i u 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 Sì, sì, dove scov? Questo è cool! E quindi? Come vorrei vedere la... La volta che voleva? Che cosa? Che cosa c'è? Non possiamo ascoltare te, ma... Non c'è, non c'è mai... si capiva un cazzo di quello che diceva più che altro non ho capito dove fosse era dentro un negozio di fianco la macanova mi piace non ci sono ancora andato da pmc immagino che appena mi iniziano a darti le queste ce ne saranno un po' avrò modo di andare mi sta morendo il tablet mi sa non sta più acceso mi metto a snickare qua ehi si era un tipo qua davanti si si ho sentito stava parlando e quindi hanno già lottato tutta anche qua mi sa madonna mia che roba sta mappa c'è niente ma niente faccio il giro nell'angolino di merdoso buio a sinistra l'ho provato a fly ma gli scap sono troppo forti la ma dici ci sono i rogue che sono quelle specie di rider che parlano in americano e sono super equipati quelli sono incazzati gli scap sono normali sono come in tutte le altre mappe quelli la si sono particolarmente incazzati eh si quelli lì sono non la vivono benissimo io sono dall'affare di carico eh ehi 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 no c'è uno che parla qua ah eeeh mi piace si mi piace mi piace no era uno scav anche perchè se volessi sparare non lo vedrei comunque quindi faccio un giro qui dall'affare di carico dietro ad Oli mi ha lottato qua eh lo andiamo a passare oh pergo dio ma è mi sto sparando aspetta che torno indietro mi ha fatto però l'ho aiutato anch'io ma sta di merda è tipo in mezzo a hobby ma era un PMC no era uno scav a caso ha iniziato a spararmi dai l'ho aiutato con tre colpi di Mosin non è morto cazzo il problema aveva questo ma pure chiesto amichevole si si oh pipipipopopo mi è arrivato di fianco ci siamo guardati ha iniziato a spararmi no l'ho sparato anche un altro sto figlio di sto figlio di io lo stunt no dipende che colpi ci sono dentro in realtà non fa schifo ho la foca dislessica non sanno parlare foca sai cosa è che tipo secondo me è talmente battuta alla mappa per l'appunto da scav che gli altri scav player ti ammazzano per vedere se tu hai trovato una gasta in live eh beh sono strozi è abbastanza più che altro scende un botto da re eh si c'è da dire che se uno non gioca da scavo comunque non gli interessa è veramente inutile si si ma non lo dico solo io che le foche non sanno parlare credo che sia una roba abbastanza risaputa sono intelligenti le foche adesso chiamiamo google quanto sono intelligenti le foche senza intelligenza le foche sono considerate animali molto intelligenti sanno adattarsi a varie situazioni e sono attenti ai segnali di pericolo quali ad esempio le vocalizzazioni delle orche loro predatrici i 15 animali più intelligenti del mondo evidentemente sono sono intelligenti le foche non lo sapevo sembravano abbastanza stupide a vederle abbiamo imparato una cosa nuova anche oggi non lo spazio datemi il flea quanto mi manca metà livello fammi vendere sta roba ma quanti cavalli servono che non veramente troppi ne servono due più un altro tre no noi quanti cavalli abbiamo uno due tre quattro già troppi cazzo ho trovato doppiettone ma ero che un po' di un po' di roba così ti rivello si ma questo cavallo mi interessa intanto da questo avrò fra un bel po' un bel un bel po' evviva la foca sempre un po' di un po' di nulla hard disk aspetto questo possiamo fare così ma il bollo dovrebbe averle finite vero 1 2 3 4 5 la lampadina un altro che posso dare a sti tipi? mi sa di no poi devo andare ancora a Voods a sparare gli scav no a Voods non devo andare hai già fatti tutti gli scav su Voods? si non credo di doverci andare perché mi ricordo di doverci andare no non devo andarci va bene cosa vuoi fare adesso? non so non so niente non so più niente io sempre in quel tarcone di merda devo andare oppure su Voods per andare gli scav questa bacca da la Voods guarda come preferisci? guarda le due per me è indifferente proviamo ancora una volta tarcone ti devo smadonnare smadonnare ancora una volta ok ok vado un secondo in bagno e arrivo l'ha messo il filtro si a parte qua si dovrebbe vedere abbastanza bene facciamo guarda un po più colorato così un pochino più bello da vedere direi facciamo così un pochino più bello da vedere forse dopo lo controllerò riguarderò il video dopo bene mentre carica mi sento un secondo anch'io colgo l'occasione mentre attendiamo un pochino più bello 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 e paletto un pochino più bello 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 Non so se fermarmi a ruotare o se può fuggire subito Aggiusto la cassaforte dai Boh non vuoi, se vuoi guardare guarda Devo schifo di merda Fatto Avvisami se arriva qualcuno, do un'occhiata per adesso che non c'è nessuno Stavo leggendo whatsapp Sono ancora qua questi comunque Fatto esco Andiamo tornando dove siamo arrivati Si si Oh madonna si è chiaro Guarda un'occhiata qua Vado rispetto all'altro lato della strada Si si questi sono la che si sparano bellamente Sono la 20 minuti Chiavetto usb Molto buono Non addirittura In uno schedario Pensa tanto Non addirittura Non addirittura Non addirittura Ehm Cosa facciamo? Sto giro andiamo Ma Giro di prima Andiamo da sinistra Aspetta fa vedere le uscite sulle stesse Ah si Proviamo da sinistra Sì da sinistra Sì da sinistra Dobbiamo far tutto il giro Se no riprobiamo da destra Per me va benissimo Dai No vabbè dai Un po' più safe Meno Ok dai Tiro fuori la mia chiavetta Se no Non ce li hai i soldi tu vero? Non ci ho pensato per mai Eh io 4500 Non penso bastano Ah no C'ho 10k Io ci bastano Ah io la bocca Cioè Io sono 7000 A meno che non ci siano Modifiche a riguardo Una volta erano 7000 Sì sì è vero Adesso c'è la macchina Beh aspetta mi ha incitofonato Oddio un secondo arrivo Uno dei momenti migliori Molto bello la mia pisata Ci può capire? C'ha la rail di fianco vuota Che è un po' brutta A durare di metterci sopra qualcosa Perché sennò sembro stupido così A dovere la rail senza niente Una volta erano Un po' brutti A me Oh? Oh Dovevo andare al corriere dove non ho sbagliato l'indirizzo Ottimo dobbiamo consegnare ai vicini ok eccomi perdon tra tra andiamo proseguiamo yep ah tra l'altro dobbiamo mettere un vuoto di scapio qua oh mamma mia ah devo venire tutta la vestagno non è un zaino porca puttana c'è una macchina e si però non ho i soldi si ti aspetto no beh ti devo dare 3000 si ok dove l'ha lanciato? qua trovate vado quanta roba aspetta che qua c'è 150 cose da cercare mhm pim pum pam ok fatto te l'ho rilasciato qua dove andiamo la macchina mhm e poi giochiamo a carte per un minuto e poi mi spiegherà perchè non può partire subito questo no? effettivamente cazzo di problema ha che merda menti che si è molto più in un minuto che si è molto più in un minuto è un minuto e' un minuto e' un minuto vedete usb trovata sarà una lunga agonia faccio l'ultima se vuoi poi stacco la macchina di merda mica diesel di cristo dai ci fa mettere così tanto che cazzo è strozzo lui no chi è che le vuole schier toh bastardo ah e se ne trovo due non posso dargliele cioè non posso consegnargliela vabbè ma cazzo lo mettevo giù ah tra l'altro dos una volta devi scaldare le candelette si vabbè ma non ci metti un minuto cioè dai cioè non ci sia in mente è stronzo lui credo veramente che non si possano avere dubbi a riguardo scusi quasi vendono sti pp di me i pp fanno veramente schifo ci sono tentato di vendere ma niente vabbè niente vuoi fare l'ultima scava si arrivo sempre no cazzo mi mancano due minuti ah perché ero morto prima vabbè aspettiamo un attimo e sarà tornata il tuo pmc come vuoi guarda un minuto e 48 io lo scavo se vuoi aspettare un secondo mi sa che rifaccio un giro di tutto lo schifo che c'è da vendere intanto beviamo e mangiamo così mi va su un metabolismo ma questi caricatori ci vanno nella capa piccola si ma chi è che vende le le ammo case le ammo case eh quando è che te le vende? livello 2 ma questo non cazzo tipo 170 ah questo è world ok vabbè invece magazine case chi te le vende? meccanico a livello 3 ah no te le vende solo dopo aver fatto shooter born in heaven quindi in realtà ah beh perché telecrafti nel head out ok si si telecrafti nel head out è vero ho lo scab si notte o pomeriggio non c'è sempre il tercegio dell'altra parte come vuoi se vuoi fare dai proviamo è perché sai cosa non saprei dove andare altrimenti per raccogliere qualcosa dicevo 3 di notte? il mattino? eh intanto è pieno anche di notte vero dai non è di giorno che non ci vediamo ok guarda che prima cazzo era pieno di morti e di scab cioè aspetta che devo chiedere ad Aurora per la pizza che pizza vuoi? a che ora arrivi? perché sono solo 12 anni che mangiano la pizza e non ho ancora imparato a dirmi cosa vuole quando arriva così la ordino si 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 mi avevi scritto prima Mattia non so se avevi sentito ma ho chiesto ad un ragazzo che Stiamo parlando per editare i video e ho chiesto se era un problema e si rifaceva dei file grossi Perché quando li registro c'è la qualità con cui registro i video per fare i video E quindi ho lasciato la qualità alta perché così non ho menate E niente mi ha detto che c'è la fibra a 1000 giga direttamente in studio Quindi mi ha smerdato così Benissimo 42 minuti attenzione E siamo da hobby E arrivano già spari brutti Ma ho i buffi Maionese Quindi non mi spaventa niente Allora qua c'è ancora roba sugli scaffali Mi sento che non è ancora passato nessuno Mi sento già da hobby attenzione Maio Un po' a chiappe strette Ho trovato un motore Ma no ma c'è anche del propano qua se lo vuoi Propano prendiamo il propano C'era un trade interessante per il propano Non mi ricordo quale C'è un'altro qua di propano Non so c'è naturalmente tante tani che propano Per me non lo vedo neanche più E' buono se trova altro che quello a fare Quello è il motore Propano è motore Propano è motore Non so che cazzo abbiamo fatto con gli spawn rate Tutto sto wipe va Tutto sputtanato Non io santo Ogni volta che vedo uno slot da due Spero che sia quello che c'era un corvo Un po' di merda Questo non lo sai tu però No io sono nell'angolo E no c'ho a scura c'è là Uже è nepploca Ok parlo in russo Allo Ah ma forse è scav scav Sei dalle casse più o meno Adesso no Ok Tu per capire dove fossi Non Nel più nemmeno No sono in mezzo adesso Cosa c'è? Un motore Ah no questo si è troppo Ah si è dentro la casetta di legno Ok te ho visto Sono dietro di fianco a te Cazzo di tubo bianco di merda Cosa serve? Ci fa il coso dell'acqua Nel hideout E poi non mi ricordo Onestamente Ah forse neanche quello dell'acqua Ma solo quello per fare il moonshine Non mi ricordo Quello ma do Allora serve tipo Tra 40 anni Ah si non mi ricordo Oh tu sei l'hose però Forse mi serve Eh Per la persona che hanno aumentato Gli spawn rate Di sto coso E niente Io ho trovato Una caterba di roba Che mi serve Quindi Vado nel magazinetto piccolo E' proprio quello che spara In questa direzione E' una cosa carina da fare Continuano a sparare in questa direzione Eh io sono nel magazinetto dietro Mi sa che Vi avrò anche di culo Perché ripeto Ho trovato un sacco di roba Che c'è Un altro C'è i colpi qua dentro Ok Adesso ho il trauma Che mi viene le armi Scariche dopo l'ultima avventura Col pompa Bastardi Guarda quanto Vabbè Un due C'è Quattro tube ho trovato Quattro Eh ma si trova veramente di tutto Trani Il cazzo di gas analyzer Che serve Noi Vabbè tanto io non c'è un cazzo Quindi vado a vedere Da idea Se te vuoi uscire Ci vedremo prossimamente Ci giro da dietro Vado di là Vorrei comprare questo gioco Mi potresti dare qualche tip Per non fare la prima partita Proprio da ebete Gioca offline Non andare online Gioca offline Anche perché se non conosci le mappe Prima di andare online Muori Cioè muori Se non riesci ad arrivare all'estrazione Non Muori Quindi se finisci il tempo che non arrivi all'estrazione Sono problemi Quindi prima di andare online Devi almeno sapere Avere un'idea generale della mappa Quindi gioca tanto da scav E gioca tanto offline La modalità offline sarebbe con i bot Si puoi metterli o non metterli Come preferisci Quando scegli offline Ti chiede se vuoi i bot Ti chiede se vuoi i bot Quanti ne vuoi Quanto incazzato li vuoi Se vuoi i boss Ti chiede tutto quanto Cioè le varie cose da spuntare Puoi fare come preferisci Diciamo che se lo fai solo Esclusivamente per imparare la mappa Puoi anche non metterli Io li metterei Perché così già che ci sei Impari anche un attimo a sparare Visto che è strano anche quello In questo gioco Questa è stato un caricatore Quindi quello sicuramente È il consiglio numero uno E poi Poi guardati i miei bellissimi video E cerca qualcuno con cui giocare Si può venire sul nostro discord Di solito un po' di gente Che cerca C'è Dientro le prime armi Così si impara insieme E poi per il resto Preparati a morire Perché si muore tanto Cazzo niente C'è un succhino di frutta Vaffanculo Cazzo Dov'è la roba no qua? Segui i link sennò lo trovi sotto anche al canale In descrizione c'è Ma anche toolbox ai madonna li hanno cagati ovunque Ce ne avrò trovati i 40 Una volta che stavano un bot adesso fa un giretto qua e torni a casa con 10 toolbox Che troia E dai andiamo direttamente in là Non è veramente un cazzo che mi serve Ma ci sono ancora passati in questo magazzino C'è ancora tutto quanto Sono da scav Si al momento si Si sono stronzo ma Non uscirai con una cappa del genere da PMC Non così tanto Con la molla lì sopra Poi in realtà se Se spara dritto va bene Non è che Se fosse messo bene come vite in realtà Un'arma come un'altra Facciamo con te Facciamo con te Ho riuscito a straver Si Ok ma sparavano a te? No 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 Ok Non ho nessuno io all'uscita tranne uno scav bot Ok sentivo che arrivavano più o meno in quella direzione C'è uno là l'uscita che spara C'è uno là l'uscita che spara Eeeh Pfff Power station No vabbè andiamo qua Maionese e questa qua poi me la tengo Ah però è fun Un'altra armor a livello No vabbè sono già passati qua Ma cosa no? Ehi Allo? C'è uno scav Boh C'è uno scav C'è ancora uno scav vivo qua dentro Sospetta come cosa Ok ha già lootato C'era la fregatura Gran bella cosa il VoIP Divertente C'è due marroni E' indubbiamente divertente Cazzo ho visto una clip di landmark oggi del VoIP Perché l'ho fatto morire No succede veramente la peggio roba Mi ripeto C'è vale la pena averlo anche solo per i video che vedete su YouTube C'è le compilation di quello che succede Come su PUBG C'è non serviva niente se non per vedere le compilation di quello che succedeva C'è il VoIP In Super People non c'è il VoIP O no? O si? Non mi ricordo Beh direi che non ci sia un gran cazzo di niente neanche qua Pare che non so dove spawnare la roba in questo post La ventisma volta che ci passa non ho ancora trovato niente Ma neanche un oggetto random C'è non c'è proprio niente niente Noo mi ha messo il caricatore adesso E niente si va via Non posso farlo Nooedè l'escorso Non c'è l'escorso C'è l'escorso serviva qualcosa a te? si ma non me lo ricordo onestamente ritengo ma non ricordo che li vendevo e valevano anche abbastanza si si all'asta costano ma non mi ricordo cosa servono ho trovato un PMC morto con la doppietta ma mica troppo è morto ma no perchè è uscito con la doppietta ah ok no quello si ho visto che almeno se non mi sono perso qualcosa non c'è modo di sparare due colpi insieme con la doppietta peccato beh insomma è meglio forse arriva già c'è il ks 23 che rompe la minchia invece mentre il fucile a pompa ma non è a pompa quello è a tamburo tu l'hai già provato? ho usato prima un fucile a pompa niente di più niente di meno ok ok sicuramente più scasso del 153 si ho capito cioè secondo me non ha senso usarlo a posto di quello se a meno che tu ti vuoi divertire perchè è più bello da vedere si si ho capito la versione del gioco ti conviene secondo me comprare quella base perchè quando vuoi puoi fare l'upgrade dando la differenza quindi secondo me ha poco senso partire con delle versioni più costose che magari dopo un mese dici no è una merda questo gioco non ci voglio mai più giocare e hai buttato via dei soldi anche perchè all'inizio avere la versione più costosa i vantaggi che ti danno non è che siano granché anche perchè lo spazio in più ok però non tanto non sai cosa metterci sostanzialmente quindi io prenderei quella base poi quando inizi ad avere problemi di spazio se ti piace il gioco e dici ok ci voglio giocare allora fa l'upgrade ciao pandoro ora abbiamo vestito bene anche il nostro scavo adesso l'armatura di quarto nella stash buono armatura doppietta e buff è una cosa di propano nella stash ti cava qualche signora quanto è arrogante ho che comprarlo sui siti esterni come sempre che in passato è stata bannata la jet ci penserei sempre molto bene visto che fra poco ci saranno dei sconti sul sito ufficiale è una bella stash con tre gas e gas analyzer dentro proprio proprio a comprare la chiave da insta gaming eh sì l'ho detto però in passato la gente è stata bannata con chiavi prese da siti esterni e una volta non si poteva fare l'upgrade alle versioni più costose tu c'è risparmio 5 euro sulla standard eh ma dipende quant'è lo sconto che fanno su Battlestegame perchè se sul sito ufficiale ti fanno lo sconto il 30% alla fine ci risparmi di più tanto vale aspettare una settimana il ban è prendersi e prendersi quella scontata il ban è sugli account usati che io sappia non lo so onestamente mi ricordo al 100% che gente con la chiave presa da siti esterni era stata bannata però stando ai post su Reddit poi poteva essere chissà cosa cosa è successo ah ma sparo un colpo solo con la doppietta è super incazzata sta cosa adesso scopo con questa arma vado a factory con questa arma basta che senso scusa? eh? non ho capito ho detto adesso vado a factory con la doppietta perchè? perchè è una bomba una figata eh te l'ho detto che è figa ma scusa in che senso sparo un colpo solo credo fosse avesse due colpi eh non ha due colpi infatti no no spari e poi devi ricaricare ho pensato tipo li spara tutti insieme allora vedi che è potentissima ti arriva una cannonata allora eh infatti pasti è una bomba sta cosa dai ho spazio sto buttando via qualcosa mi so aspetta intanto iniziamo a riempire noo ma che figli di puttano non posso mettere i colpi nei tricare caricatori da sta schermata vabbè sei un animale sei posso fare così no dai se un cazzo l'animale gioco bastardo non sperare che non prenda questa doppietta gioco sappilo non sperarci neanche qua c'ho spazio non è pieno infatti vuole evitare di usare ho permesso lo userò ma perché i baffi vanno qua il baffone va qua quando andiamo stasera se andiamo con piero customs devo fare the extortionist qual è devo allora devo cercare locate messengers body ah ok aspetta che devo andare a vedere forse non mi ricordo più se è quella tipo nel presente nel vagone no no è una casettina a quella del piazzale si dove c'è le macchine che salti più o meno quel cazzillo lì ma ci va la chiave è quella del corpo nel cespuglio alla ok che io a non qualcosa a non chi che non l'ho ancora trovato prima io ce l'ho ma tanto ospona sempre lì se non c'è perché qualcuno l'ha presa esatto tutte le volte che sono nato lì il body raccia ha scritto close quindi l'hanno già presa io mi sono sempre attaccato al cazzo fortissimo vabbè comunque se ce l'hai sì sì devo soltura spazio per questa armatura adesso non so dove mettere ma anche il corpo cosa ce l'ho già Il KM è veramente cattivo. Quanto occupa? Sì, ciao. Due chilometri occupa. Due, due, quattro, sei slot. Bene, bisogna che vengano roba. Sì, un'altra quest di merda che blocca tutto è quella di ammazzare 6 PMC nella zona dell'ufficio di Factory. Infatti bisogna che la vada a fare. Anche quella lì, minchia, tenere sblocca tipo 4 dopo, Jäger. Che due, insomma, è riuscito a finirla così. Adesso bisogna che spammo un po', così butto via anche un po' di gear. Il PMC con la pistola lei li ha fatti? Sì, sì. Sì, quella tra l'altro non lo fa. Quella la faccio sempre a Factory, invece questo giro l'ho fatta a custom, a merda, facendo altre quest. Mi è andata bene, l'ho fatta lì, a caso. Sì, sì. Completamente a random. Vabbè, niente, direi che me ne vado. Yep. Direi che me ne vado, ci sentiamo stasera se son vivo. Va bene, va bene. Ci vediamo dopo, ciao. A dopo, ciao, ciao, ciao. Stacco anche la live, gente, va. Se compri il gioco su Instagram le tasse doganali non si pagano. Non ti arriva il gioco, ti danno un codice che sblocchi il gioco poi dal sito. Quindi non è che ti arriva niente, non è che devi pagare le tasse doganali. Guarda che sono scivolato sulla sedia dopo le prime 5-6 ore di live. Comunque, dicevo, ci sentiamo in live domani. Questa sera quasi sicuramente no, però per chi vuole siamo su Discord che streammo lì. e giocheremo con gli altri, quindi per chi vuole venire a stare in compagnia siamo lì, ci trovate lì. e grazie del follow. Grazie dei sub, donazioni eccetera di oggi. Non mi ricordo come si chiamano su YouTube, super chat, mi devo abituare. Quindi gente, fatti bravi. Buona serata. Chi è che sta streamando? C'è Killner? Va bene, andate a vedere Killner che è bravo. Ah, c'è anche Dangers che è tornato da giocare, va bene. Niente, buona serata. Ci vediamo domattina in live o su Discord o Telegram per chi c'è. Grazie a compagnia e buona serata. Ciao ciao. Ciao Quafra, grazie.